L'ESODO CAPITOLO PRIMO Or questi sono i nomi dei figliuoli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Isacar, Zabulon e Beniamino, Dan, Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe ammontavano a settanta. Giuseppe era già in Egitto, e Giuseppe morì come moriron pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi, e si fescero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno. Ora sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, Ecco, il popolo dei figliuoli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Orsù usiamo prudenza con essi che non abbiano a moltiplicare e, in caso di guerra, non abbiano a unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi, e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei soprastanti ai lavori, che l'opprimessero con le loro angherie. Ed esso edificò a Faraone le città di approvvigionamento, Pitom e Ramses, ma più l'opprimevano e più il popolo moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani presero in avversione i figliuoli di Israele, e fecero servire i figliuoli di Israele con asprezza, e ammareggiarono loro la vita con una dura servitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi, e imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici degli ebrei, delle quali l'una si chiamava Shifra e l'altra Pua, e disse, Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio, uccidetelo, ma se è una femmina, lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero il Dio, e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, lasciarono vivere i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro, Perché avete fatto questo, e avete lasciato vivere i maschi? E le levatrici risposero a Faraone, Egli è che le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose, e prima che le levatrici arrivi da loro hanno partorito. E Dio fece del bene a quelle levatrici, e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. E perché quelle levatrici temettero il Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora Faraone diede quest'ordine al suo popolo. Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. L'Esodo Capitolo Secondo Or, un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliuola di Levi. Questa donna concepì e partorì un figliuolo, e vedendo come egli era bello, lo tenne nascosto tre mesi. E quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pesce, vi pose dentro il bambino, e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. E la sorella del bambino se ne stava a una certa distanza, per sapere quel che gli succederebbe. Or, la figliuola di Faraone scese a fare le sue ablusioni sulla riva del fiume, e le sue donzelle passeggiavano lungo il fiume. Ella vide il canestro nel canneto, e mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì, e vide il bimbo, ed ecco il piccino piangeva, ed ella nebbe con passione e disse, questo è uno dei figliuoli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figliuola di Faraone, devo andare a chiamarti una balia fra le donne ebree che tallatti questo bimbo? E la figliuola di Faraone le rispose, va! E la figliuola andò a chiamare la madre del bambino. E la figliuola di Faraone le disse, porta via questo bambino, allattamelo, e io ti darò il tuo salario. E quella donna prese il bambino e lo allattò. E quando il bambino fu cresciuto, ella lo menò dalla figliuola di Faraone. Esso fu per lei come un figliuolo. Ed ella gli pose nome Mosè, perché disse, io lo tratto dall'acqua. Or in quei giorni, quando Mosè era già diventato grande, avvenne che gli uscì a trovare i suoi fratelli, e notò i lavori di cui erano aggravati, e vedi un egiziano che percoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là, e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì, ed ecco due ebrei che si litigavano, ed egli disse a quello che aveva torto, perché percuoti il tuo compagno? E quegli gli rispose, chi t'ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi tu uccidere me come uccidesti l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse, certo la cosa è nota. E quando Faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dal cospetto di Faraone e si fermò nel paese di Madian, e si mise a sedere presso ad un pozzo. Ora il sacerdote di Madian aveva sette figliuole, ed esse vennero ad attingere acqua e riempire gli abbeveratori per abbeverare il greggio del padre loro. Ma assopra giunsero i pastori, che le scacciarono. Allora Mosè si levò, prese la loro difesa e abbeverò il loro greggio. E come se giunsero da Ruhe al loro padre, questi disse, come mai siete tornate così presto oggi? Ed esse rispossero, un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori, e di più ci ha attinto l'acqua ed ha abbeverato il greggio. Ed egli disse alle sue figliuole, e dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo, che prenda qualche cibo. E Mosè acconsestì a stare da quell'uomo, e gli diede a Mosè Sefora, sua figliuola, ed ella partorì un figliuolo che egli chiamò Gershom, perché disse, io soggiorno in terra straniera. Or, nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì, e i figliuoli d'Israele sospiravano a motivo della schiavitù, e alzavano delle grida, e le grida che il servaggio strappava, loro salirono a Dio. E Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figliuoli d'Israele, e Dio ebbe riguardo alla loro condizione. L'Esodo, capitolo terzo Or Mosè passeva il greggio di Getro, suo suocero, sacerdote di Madiam, e, guidando il greggio dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma? E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno, e disse, Mosè! Mosè! Ed egli rispose, eccomi! E Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono l'iddio di tuo padre, l'iddio di Abramo, l'iddio di Isacco, e l'iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. E l'Eterno disse, ho veduto, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Itei, gli Amorei, i Feresei, gli Iveyi, e i Gabusei. Ed ora ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunti a me, ed ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Ordunque vieni e io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo i figlioli di Israele dall'Egitto. E Mosè disse a Dio, chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, va, perché io sarò teco, e questo sarà per te il segno che io sono che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete i Dio su questo monte. E Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele e avrò detto loro, lì Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono, qual è il suo nome? Che risponderò loro? E Dio disse a Mosè, io sono quelli che sono. Poi disse, dirai così ai figlioli di Israele, lì ho sono, ma mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figlioli di Israele, l'Eterno lì Dio dei vostri padri, lì Dio di Abramo, lì Dio di Isacco, lì Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi, tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro, l'Eterno, lì Dio dei vostri padri, lì Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi ha apparso dicendo, certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto, ed ho detto, io vi trarrò dall'afflizione dell'Egitto e vi farò salire nel paese di Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Faresei, degli Vei, dei Gabusei, in un paese dove scorre il latte e il miele, ed essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte, l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, ci è venuto incontro, ordunque, lasciatici andare tre giornate di cammino nel deserto, per offrir sacrifici all'Eterno all'Iddio nostro. Or, io so che il re d'Egitto non vi concederà ad andare se non forzato da una potente mano, e io stenderò la mia mano e percuterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso, e dopo questo vi lascerà andare, e farò sì che questo popolo trovi favore presso gli Egiziani, e avverrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua casalinga degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti, e voi li metterete addosso ai vostri figlioli e alle vostre figliole, e così spoglierete gli Egiziani. L'Esodo Capitolo Quarto Mosè rispose e disse, ma ecco, e sì, non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce perché diranno, l'Eterno non te ha parso. E l'Eterno gli disse, che è quello che hai in mano? Ed egli rispose, un bastone, e l'Eterno disse, gettalo in terra. Egli lo gettò in terra ed esso diventò un serpente, e Mosè fuggì dinanzi a quello. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stesse la mano e lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, l'Idio dei tuoi padri, l'Idio di Abramo, l'Idio di Isacco, l'Idio di Giacobbe, ti è apparso. E l'Eterno gli disse ancora, mettiti la mano in seno. Ed egli si mise la mano in seno, poi cavatela fuori, ecco la mano era lebrosa, bianca come neve. e l'Eterno gli disse, rimettiti la mano in seno. Egli si rimise la mano in seno, poi cavatela di seno, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. E se avverrà che non credono neppure a questi due segni e non ubbidiscono alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e te la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrà presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. E Mosè disse all'Eterno, ahimè, Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, già che io sono tardo di parola e di lingua. E l'Eterno gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo o chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io l'Eterno? Ordunque va e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. E Mosè disse, De, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira dell'Eterno scese contro Mosè ed e gli disse, non c'è Aronne tuo fratello in Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto ecco egli esce ad incontrarti e come ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo e così ti servirà di bocca e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone col quale farai prodigi. Allora Mosè se ne andò tornò da Getro suo suocero e gli disse Deh lascia che me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto e vega se sono ancora vivi. E Getro disse a Mosè va in pace. Or l'Eterno disse a Mosè in Madiam va tornate in Egitto perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese la sua moglie e i suoi figliuoli li pose su degli assini e tornò nel paese d'Egitto e Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio e l'Eterno disse a Mosè quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo e tu dirai a Faraone così dice l'Eterno Israele è il mio figliuolo e il mio primogenito e io ti dico lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva e se tu ricusi di lasciarlo andare ecco io ucciderò il tuo figliuolo il tuo primogenito ora venne che essendo Mosè in viaggio nel luogo dove gli albergava l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire allora Sephora prese una selce tagliente e recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo sposo di sangue tu mi sei e l'Eterno lo lasciò allora e la disse sposo di sangue per via della circoncisione e l'Eterno disse ad Aronne va nel deserto incontro a Mosè ed egli andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò e Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che l'Eterno l'aveva incaricato di dire e tutti i segni portentosi che gli aveva ordinato di fare Mosè ed Aronne dunque adorarono e radunarono tutti gli anziani dei figliuoli di Israele e Aronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo ed il popolo prestò loro fede e sintessero che l'Eterno aveva visitato i figliuoli di Israele e aveva veduto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono Esodo capitolo quinto dopo questo Mosè ed Aronne vennero a Faraone e gli dissero così dice l'Eterno l'Iddio di Israele lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto ma Faraone rispose chi è l'Eterno che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele ed essi dissero l'Iddio degli ebrei si è presentato a noi lasciaci andare tre giornate di cammino nel deserto per offrir sacrifici all'Eterno che è il nostro Dio onde ei non abbia colpirci con la peste o con la spada e il re d'Egitto disse loro o Mosè e Aronne perché distraete il popolo dai suoi lavori andate a fare quello che vi è imposto e Faraone disse ecco il popolo è ora numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti e quello stesso giorno Faraone dette quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sovravveglianti voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare mattoni vadano essi a raccogliersi della paglia e imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima senza diminuzione alcuna perché sono dei pigri e però gridano dicendo andiamo a offrir sacrifici al nostro Dio sia questa gente caricata di lavoro e si occupi di quello senza badare a parole di menzogna allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo così dice Faraone io non vi darò più paglia andate voi a procurarvi della paglia dove ne potete trovare perché il vostro lavoro non sarà diminuito per nulla così il popolo si sparse per tutto il paese ed Egitto per raccogliere della stoppia invece che paglia gli ispettori li sollecitavano dicendo compite i vostri lavori giorno per giorno come quando c'era la paglia e i sorveglianti dei figlioli di Israele stabiliti sopra loro dagli ispettori di Faraone furono battuti e fu loro detto perché non avete fornito ieri e oggi come prima la quantità di mattoni che vi è imposta allora i sorveglianti dei figlioli di Israele vennero a lagnarsi da Faraone dicendo perché tratti così i tuoi servitori non si dà più paglia ai tuoi servitori e ci si dice fate dei mattoni ed ecco che i tuoi servitori sono battuti e il tuo popolo è considerato come colpevole ed egli rispose siete dei pigri siete dei pigri per questo dite andiamo ad offrire sacrifici all'eterno ordunque andate a lavorare e non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta i sorveglianti dei figlioli di Israele si videro ridotti a mal partito perché si diceva loro non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostori giorno per giorno e uscendo da Faraone incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli e dissero loro l'Eterno volga il suo sguardo su voi e giudichi poiché ci avete messi in cattivo odore dinanzi a Faraone dinanzi ai suoi servitori e avete loro messa la spada in mano perché ci uccida allora Mosè tornò dall'Eterno e disse Signore perché hai fatto del male a questo popolo perché dunque mi hai mandato poiché da quando sono andato da Faraone per parlargli in tuo nome egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo l'Esodo capitolo sesto l'Eterno disse a Mosè ora vedrai quello che farò a Faraone perché forzato da una mano potente li lascerà andare anzi forzato da una mano potente li caccerà dal suo paese e Dio parlò a Mosè e gli disse io sono l'Eterno e apparì ad Abramo ad Isacco e a Giacobbe come le Dio Onnipotente ma non fui conosciuto da loro sotto il nome di Eterno stabilì pure con loro il mio patto promettendo di dar loro il paese di Canaan il paese dei loro pellegrinaggi nel quale soggiornavano ed ho anche udito i gemiti dei figliuoli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto perciò di ai figliuoli di Israele io sono l'Eterno vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani vi emanciperò dalla loro schiavitù e vi redimerò con braccio stesso e con grandi giudizi e vi prenderò per mio popolo e sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono l'Eterno il vostro Dio che vi sottrae dai duri lavori impostivi dagli egiziani e vi introdurrò nel paese che giurai di dare ad Abramo a Isacco e Giacobbe e ve lo darò come possesso ereditario io sono l'Eterno e Mosè parlò a quel modo ai figliuoli di Israele ma essi non dettero ascolto a Mosè a motivo dell'angoscia dello spirito loro e della loro dura schiavitù e l'Eterno parlò a Mosè dicendo va parla a Faraone re d'Egitto onde egli lasci uscire i figliuoli di Israele dal suo paese ma Mosè parlò nel cospetto dell'Eterno e disse ecco i figliuoli di Israele non mi hanno dato ascolto come dunque darebbe Faraone ascolto a me che sono incirconciso di labbra e l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro d'andare dai figliuoli di Israele e da Faraone re d'Egitto per trarre i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto questi sono i capi delle famiglie loro figliuoli di Ruben primogenito di Israele Enoch e Pallù Estron e Carmi questi sono i rami dei Rubeniti i figliuoli di Simeone Gemuel Jamin Ohad Jacin Sokar e Saul figliuolo della Cananea questi sono i rami dei Simeoniti questi sono i nomi dei figliuoli di Levi secondo le loro generazioni Gerson Kehath e Merari e gli anni della vita di Levi furono centotrentasette figliuoli di Gerson Libni e Shimei con le loro diverse famiglie i figliuoli di Kehath Amram Jitzar Ebron e Uziel e gli anni della vita di Kehath furono centotrentatré i figliuoli di Merari Mahali e Mush questi sono i rami dei Leviti secondo le loro generazioni or Amram prese per moglie Jokabed sua zia ed egli li partorì Aronne e Mosè e gli anni della vita di Amram furono centotrentasette i figliuoli di Jitshar Core Nefeg e Zikri i figliuoli di Uziel Mishael El-Safan e Sitri Aronne prese per moglie Elisciba figliuola di Aminadab sorella di Nahashom ed è la lipartorina Dab Abihu Eleazar e Yetamar figliuoli di Core Assir Elcana e Abiasaf questi sono i rami dei Coriti Elisar figliuolo di Aronne prese per moglie una delle figliuole di Putiel ed dell'aliparturifineas questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami e questo è quella ronne e quel Mosè ai quali l'Eterno disse fate uscire i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto spartiti nelle loro schiere essi sono quelli che parlarono a Faraone re d'Egitto per trarre i figliuoli di Israele dall'Egitto sono quel Mosè e quella ronne or avvenne allorché l'Eterno parlò a Mosè nel paese d'Egitto che l'Eterno disse a Mosè io sono l'Eterno di a Faraone re d'Egitto tutto quello che dico a te e Mosè rispose nel cospetto dell'Eterno ecco io sono incirconciso di labbra come dunque Faraone porgerà egli ascolto l'Esodo capitolo settimo l'Eterno disse a Mosè vedi io ti ho stabilito come Dio per Faraone e Arone tuo fratello sarà il tuo profeta tu dirai tutto quello che t'ordinerò e Arone tuo fratello parlerà a Faraone perché lasci partire i figliuoli di Israele dal suo paese e io indurerò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto e Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto e farà uscire dal paese d'Egitto le mie schiere il mio popolo i figliuoli di Israele mediante grandi giudizi e gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò stesso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figliuoli di Israele e Mosè e Arone fecero così fecero come l'Eterno aveva loro ordinato or Mosè aveva ottant'anni e Arone ottant'atré quando parlarono a Faraone l'Eterno parlò a Mosè e ad Arone dicendo quando Faraone vi parlerà e vi dirà fate un prodigio tu dirai ad Arone prendi il tuo bastone gettalo davanti a Faraone e diventerà un serpente Mosè ed Arone andarono dunque da Faraone e fecero come l'Eterno aveva ordinato Arone gettò il suo bastone davanti a Faraone davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente Faraone a sua volta chiamò i savi e gli incantatori e i magi d'Egitto fecero anch'essi lo stesso con le loro arti occulte ognundessi gettò il suo bastone e i bastoni diventarono serpenti ma il bastone d'Aronne inghiottì i bastoni di quelli e il cuore di Faraone si indurò ed egli non dia ascolto a Mosè e ad Aronne come l'Eterno aveva detto l'Eterno disse a Mosè il cuore di Faraone è ostinato egli rifiuta di lasciare andare il popolo va da Faraone domani mattina ecco egli uscirà per andare verso l'acqua tu sta ad aspettarlo sulla riva del fiume e prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente ed egli l'Eterno l'iddio degli ebrei ma mandato da te per dirti lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto ed ecco fino ad ora tu non hai ubbidito così dice l'Eterno da questo conoscerai che io sono l'Eterno ecco io percoterò col bastone che io ho in mia mano le acque che sono nel fiume ed esse saranno mutate in sangue e il pesce che è nel fiume morrà e il fiume sarà ammorbato e gli egiziani avranno ripugnanza a bere l'acqua del fiume e l'Eterno disse a Mosè di ad Aronne prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto sui loro fiumi sui loro rivi sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua essa diventerà sangue e vi sarà sangue per tutto il paese d'Egitto perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra Mosè ed Aronne fescero come l'Eterno aveva ordinato Aronne alzò il bastone e in presenza di Faraone e in presenza dei suoi ervitori percorse le acque che erano nel fiume e tutte le acque che erano nel fiume furono cangiate in sangue e il pesce che era nel fiume morì e il fiume fu ammorbato sì che gli egiziani non potevano bere l'acqua del fiume e vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto e i magi d'Egitto fecero lo stesso con le loro arti occulte e il cuore di Faraone si indurò anche egli sì che non dia ascolto a Mosè e ad Aronne come l'Eterno aveva detto e Faraone volte ad esse le spalle se ne andò a casa sua e neanche di questo fece alcun caso e tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere perché non potevano bere l'acqua del fiume e passarono sete interi giorni dopo che l'Eterno ebbe percosso il fiume l'Esodo capitolo ottavo poi l'Eterno disse a Mosè vada Faraone e digli così dice l'Eterno lascia andare il mio popolo perché mi serva e se rifiuti di lasciarlo andare ecco io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane e il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa nella camera dove dormi sul tuo letto nelle case dei tuoi servitori e il tuo popolo nei tuoi forni e nelle tue madie e le rane assaliranno te e il tuo popolo e tutti i tuoi servitori e l'Eterno disse a Mosè di ad Aronne stendi la tua mano col tuo bastone sui fiumi sui rivi e sugli stagni e fa salire le rane sul paese d'Egitto e Aronne stesse la sua mano sulle acque d'Egitto e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto e i magi fecero lo stesso con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese d'Egitto allora Faraone chiamò Mosè e Aronne e disse loro pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici all'Eterno e Mosè disse a Faraone fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie supplicazioni per te per i tuoi servitori e per tutto il popolo che l'Eterno distrugga le rane intorno a te e nelle tue case e non ne rimanga se non che nel fiume e gli rispose per domani e Mosè disse sarà fatto come tu dici affinché tu sappia che non v'è alcuno pari all'Eterno che è il nostro Dio e le rane si allontaneranno da te dalle tue case dai tuoi servitori e dal tuo popolo non ne rimarrà che nel fiume Mosè ed Aronne uscirono da Faraone e Mosè implorò l'Eterno relativamente alle rane che aveva inflitte a Faraone e l'Eterno fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case nei cortili e nei campi le radunarono a mucchi e il paese ne fu ammorbato ma quando Faraone vide che vera un po' di respiro si ostinò in cuor suo e non die ascolto a Mosè e ad Aronne come l'Eterno aveva detto e l'Eterno disse a Mosè di ad Aronne stendi il tuo bastone e percuoti la polvere della terra ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto ed essi fecero così Aronne stese la mano col suo bastone percosse la polvere della terra e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto e i magi cercarono di far lo stesso coi loro incantesmi per produrre le zanzare ma non poterono le zanzare furono dunque sugli uomini e sugli animali allora i magi dissero a faraone questo è il dito di Dio ma il cuore di faraone si indurò ed Egli non di ascolto a Mosè e ad Aronne come l'Eterno aveva detto poi l'Eterno disse a Mosè alzati di buon mattino e presentati a faraone ecco egli uscirà per andare verso l'acqua ed egli così dice l'Eterno lascia andare il mio popolo perché mi serva se no se non lasci andare il mio popolo ecco io manderò su di te sui tuoi servitori sul tuo popolo e nelle tue case le mosche velenose le case degli egiziani saranno piene di mosche velenose e il suo suolo su cui stanno ne sarà coperto ma in quel giorno io farò eccezione nel paese di Goshen dove abita il mio popolo e qui vi non ci saranno mosche affinché tu sappia che io l'Eterno sono in mezzo al paese e io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo domani avverrà questo miracolo e l'Eterno fece così e vennero grandi sciami di mosche velenose in casa di Faraone nelle case dei suoi servitori e in tutto il paese d'Egitto la terra fu guasta dalle mosche velenose Faraone chiamò Mosè ed Arone e disse andate offrite sacrifici al vostro Dio nel paese ma Mosè rispose non si può far così poiché offriremo all'Eterno che è lì Dio nostro dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani ecco se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani non ci rapiderebbero essi andremo tre giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici all'Eterno che è il nostro Dio come Egli ci ordinerà e Faraone disse io vi lascerò andare perché offriate sacrifici all'Eterno che è il vostro Dio nel deserto soltanto non andate troppo lontano pregate per me e Mosè disse ecco io esco da te e pregherò l'Eterno e domani le mosche si allontaneranno da Faraone dai suoi servitori dal suo popolo soltanto Faraone non si faccia più beffe impedendo al popolo di andare ad offrire sacrifici all'Eterno e Mosè uscì dalla presenza di Faraone e pregò l'Eterno e l'Eterno non fece quel che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose da Faraone dai suoi servitori e dal suo popolo non ne restò neppure una ma anche questa volta Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo l'Esodo capitolo nono allora l'Eterno disse a Mosè va da Faraone e digli così dice l'Eterno l'iddio degli ebrei lascia andare il mio popolo perché mi serva che se tu rifiuti di lasciarlo andare lo trattieni ancora ecco la mano dell'Eterno sarà sul tuo bestiame che è nei campi sui cavalli sugli asini sui cammelli sui buoi sulle pecore e ci sarà una tremenda mortalità e l'Eterno farà distinzione fra il bestiame d'Israele e il bestiame d'Egitto e nulla morrà di tutto quello che appartiene ai figlioli d'Israele e l'Eterno fissò un termine dicendo domani l'Eterno farà questo nel paese e l'indomani l'Eterno lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì ma il bestiame dei figlioli d'Israele neppure un capo morì e Faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti ma il cuore di Faraone fu ostinato ed ei non lasciò andare il popolo e l'Eterno disse a Mosè ad Aronne prendete delle manate di cenere di fornace e la sparga Mosè verso il cielo sotto gli occhi di Faraone essa diventerà una polvere che colpirà tutto il paese d'Egitto e produrrà delle ulcere germoglianti pussole sulle persone e sugli animali per tutto il paese d'Egitto ed essi presero della cenere di fornace si presentarono a Faraone e Mosè la sparse verso il cielo ed essa produsse delle ulcere germoglianti pustole sulle persone e sugli animali e i magi non poterono stare dinanzi a Mosè a motivo delle ulceri perché le ulceri erano addosso ai magi come addosso a tutti gli egiziani e l'eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non dì ascolto a Mosè e a Laronne come l'eterno aveva detto a Mosè poi l'eterno disse a Mosè levati di buon mattino presentati a Faraone e digli così dice l'eterno lì Dio degli ebrei lascia andare il mio popolo perché mi serva poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore sui tuoi servitori sul tuo popolo affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percorso di peste te e il tuo popolo tu saresti stato sterminato di sulla terra ma no io t'ho lasciato sussistere per questo per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra e ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare ecco domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai simile in Egitto da che fu fondato fino al di d'oggi ordunque manda a far mettere al sicuro il tuo bestiamo e tutto quello che hai per i campi la grandine cadrà su tutta la gente e su tutti gli animali che si troveranno per i campi e che non saranno stati raccolti in casa e morranno fra i servitori di Faraone quelli che temettero la parola dell'Eterno fescero rifugiare nelle case i loro servitori e i loro bestiame ma quelli che non fecero conto della parola dell'Eterno lasciarono i loro servitori e i loro bestiame per i campi e l'Eterno disse a Mosè stendi la tua mano verso il cielo e cada la grandine in tutto il paese d'Egitto sulla gente sugli animali e sopra ogni erba dei campi e nel paese d'Egitto e Mosè stese il suo bastone verso il cielo e l'Eterno mandò tuoni e grandine e del fuoco s'avventò sulla terra e l'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo fra la grandine e la grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto da che era diventato nazione e la grandine percose in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi uomini e bestie e la grandine percose ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna solamente nel paese di Goshen dove erano i figlioli di Israele non cadde grandine allora Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne e disse loro questa volta io ho peccato l'Eterno è giusto mentre io e il mio popolo siamo colpevoli pregate l'Eterno perché cessino questi grandi tuoni e la grandine ed io vi lascerò andare non sarete più trattenuti e Mosè gli disse come sarò uscito dalla città protenderò le mani all'Eterno e i tuoi non incesseranno e non ci sarà più grandine affinché tu sappia che la terra è dell'Eterno ma quanto a te e ai tuoi servitori io so che non avrete ancora timore dell'Eterno e Dio or il lino e l'orso erano stati percossi perché l'orso era in spiga e il lino in fiore ma il grano e la spelda non furono percossi perché sono serotini Mosè dunque lasciato Faraone uscì di città protesse le mani all'Eterno e i tuoni e la grandine cessarono e non cade più poggia sulla terra e quando Faraone vide che la pioggia alla grandine e i tuoni erano cessati continuò a peccare e si ostinò in cuor suo lui e i suoi servitori e il cuore di Faraone si indurò ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè l'Esodo capitolo decimo e l'Eterno disse a Mosè vada Faraone poiché io ho resostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori per fare in mezzo a loro i segni che vedrai e perché tu narri ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro onde sappiate che io sono l'Eterno Mosè ed Aronne andarono dunque da Faraone gli dissero così dice l'Eterno lì Dio degli ebrei fino a quando rifiuterai di umiliarti dinanzi a me lascia andare il mio popolo perché mi serva se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo ecco domani farò venire delle locuste in tutta l'estensione del tuo paese esse copriranno la faccia della terra sì che non si potrà vedere il suolo ed esse divoreranno il resto che è scampato ciò che è rimasto dalla grandine e divoreranno ogni albero che vi cresce nei campi ed empiranno le tue case le case dei tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani come nei suoi padri nei padri dei tuoi padri videro mai dal giorno che furono sulla terra del doggi detto questo voltò le spalle e uscì dalla presenza di faraone e i servitori di faraone gli dissero fino a quando quest'uomo ci sarà come un laccio lascia andare questa gente che serva l'eterno lì dio suo non sai tu che l'egitto è rovinato allora mosè ed aronne furono fatti tornare da faraone ed egli disse loro andate servite all'eterno lì dio vostro ma chi sono quelli che andranno e mosè disse noi andremo coi nostri fanciulli e coi nostri vecchi coi nostri figlioli con le nostre figliole andremo coi nostri greggi e coi nostri armenti perché dobbiamo celebrare una festa all'eterno e faraone disse loro così sia l'eterno con voi come io lascerò andare voi e i vostri bambini badate bene perché avete delle cattive intenzioni no no andate voi uomini e servite l'eterno poiché questo è quel che cercate e faraone li cacciò dalla sua presenza allora l'eterno disse a mosè stendi la tua mano sul paese d'egitto per farvi venire le locuste e salgano esse sul paese d'egitto e divorino tutta l'erba del paese e tutto quello che la grandine ha lasciato e mosè stesse il suo bastone sul paese d'egitto e l'eterno fece elevare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte e come venne la mattina il vento orientale aveva portato le locuste e le locuste salirono su tutto il paese d'egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'egitto erano insi gran quantità che prima non ce n'erano mai state tante né mai più tante ce ne saranno esse coprirono la faccia di tutto il paese in guisa che il paese ne rimase oscurato e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato e nulla restò di verde negli alberi e nell'erba della campagna per tutto il paese d'egitto allora faraone chiamò in fretta Mosè ed Aronne e disse io ho peccato contro l'eterno lì Dio vostro e contro voi ma ora perdona ti prego il mio peccato questa volta soltanto e supplicate l'eterno lì Dio vostro perché almeno allontani da me questo flagello mortale e Mosè uscì da faraone e pregò l'eterno e l'eterno fellevare un vento contrario e un gagliardissimo vento di ponente che portò via le locuste e le precipitò nel mar rosso non ci rimase neppure una locusta in tutta l'estensione d'Egitto ma l'eterno indurò il cuore di faraone ed egli non lasciò andare i figlioli d'Israele e l'eterno disse a Mosè stendi la tua mano verso il cielo e sianvi tenebre nel paese d'Egitto tali che si possan palbare e Mosè stesse la sua mano verso il cielo e ci fu una fitta tenebria in tutto il paese d'Egitto per tre giorni uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse dove stava per tre giorni ma tutti i figlioli d'Israele avevano della luce nelle loro dimore allora faraone chiamò Mosè e disse andate servite l'Eterno rimangano soltanto i vostri greggi e i vostri armenti anche i vostri bambini potranno andare con voi e Mosè disse tu ci devi anche concedere di prendere di che fare dei sacrifici e degli olocausti perché possiamo offrire sacrifici all'Eterno che è lì Dio nostro anche il nostro bestiame verrà con noi senza che ne rimanga dietro neppure un'unghia poiché di esso dobbiamo prendere per servire l'Eterno che è il nostro Dio e noi non sapremo con che cosa dovremo servire l'Eterno finché saremo giunti colà ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non volle lasciarli andare e Faraone disse a Mosè vattene via da me guardati bene dal comparire di più alla mia presenza poiché il giorno che comparirà alla mia presenza tu morrai e Mosè rispose hai detto bene io non comparirò più alla tua presenza l'Esodo capitolo undicesimo e l'Eterno disse a Mosè io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto poi egli vi lascerà partire di qui quando vi lascerà partire egli addirittura vi caccerà di qui ora parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e a ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro e l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani anche Mosè era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto agli occhi dei servitori di Faraone e agli occhi del popolo e Mosè disse così dice l'Eterno verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito del paese d'Egitto morrà dal primogenito di Faraone che siede sul trono al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame e vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido quale non ci fu mai prima né ci sarà di poi ma fra tutti i figlioli di Israele tanto fra gli uomini quanto fra gli animali neppure un cane muoverà la lingua affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e Israele e tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito e dopo questo io partirò e Mosè uscì dalla presenza di Faraone a Cesodira e l'Eterno disse a Mosè Faraone non vi darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto e Mosè ed Aronne fecero tutti questi prodigi dinanzi a Faraone ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non lasciò uscire i figlioli d'Israele dal suo paese Esodo capitolo dodicesimo l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo questo mese sarà per voi il primo dei mesi sarà per voi il primo dei mesi dell'anno parlate a tutta la radunanza di Israele e dite il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia un agnello per casa e se la casa è troppo numerosa per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo tenendo conto del numero delle persone voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno potrete prendere un agnello o un capretto lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta la radunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue d'esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà e se ne mangi la carne in quella notte si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con dell'erbe amare non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua ma sia arrostito al fuoco con la testa le gambe e le interiore e non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina e quel che ne sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo col fuoco e mangiatelo in questa maniera coi vostri fianchi cinti coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta è la Pasqua dell'Eterno quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito del paese d'Egitto tanto degli uomini quanto degli animali e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete e quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percuoterò il paese d'Egitto quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno lo celebrerete d'età in età come una festa di istituzione perpetua per sette giorni mangerete i pani a zimi fino dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà reciso da Israele e il primo giorno avrete una santa convocazione e una santa convocazione il settimo giorno non si faccia alcun lavoro in quel giorno si prepari soltanto quel che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro osservate dunque la festa degli a zimi poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese d'Egitto osservate dunque quel giorno d'età in età come un'istituzione perpetua mangiate pani a zimi alla sera del quattordicesimo giorno del mese fino alla sera del ventunesimo giorno per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case perché chiunque mangerà qualche cosa di lievitato quel tale sarà reciso dalla radunanza di Israele sia egli forestiero o nativo del paese non mangiate nulla di lievitato in tutte le vostre dimore mangiate pani a zimi Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro sceglietevi e prendetevi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua e prendete un mazzetto disse po' intingetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipidi delle porte e nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave sugli stipidi l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi osservate dunque questo come un'istituzione perpetua per voi e per i vostri figlioli e quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà conforme ha promesso osservate questo rito e quando i vostri figlioli vi diranno che significa per voi questo rito risponderete questo è il sacrificio della Pasqua in onore dell'Eterno il quale passò oltre le case dei figlioli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case e il popolo s'inchinò e adorò e i figlioli di Israele andarono e fecero così fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e a Daronne e avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti del paese d'Egitto dal primogenito di Faraone che sedeva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame e Faraone si alzò di notte egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani e vi fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non fosse un morto ed egli chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse levatevi partite di mezzo al mio popolo voi e figliuoli di Israele andate servite l'Eterno come avete detto prendete i vostri greggi e i vostri armenti come avete detto andatevene e benedite anche me e gli egiziani facevano forza al popolo per affrettare la partenza del paese perché dicevano noi siamo tutti morti e il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle i figliuoli di Israele fecero come Mosè aveva detto domandarono agli egiziani degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro e dei vestiti e l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani che gli dettero quel che domandava così spogliarono gli egiziani i figliuoli di Israele partirono da Ramses per Sukkot il numero di circa seicentomila uomini a piedi senza contare i fanciulli e una folla di gente d'ogni specie salì anch'essa con loro e avevano pure greggi armenti bestiame in grandissima quantità e cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce a zime poiché la pasta non era lievitata essendo essi stati cacciati dall'Egitto senza poter indugiare e senza potersi prendere provisioni di sorta or la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di quattrocentotrent'anni e il termine di quattrocentotrent'anni proprio il giorno che finivano avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese d'Egitto questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno perché Eli trasse dal paese d'Egitto questa è una notte consacrata all'Eterno per essere osservata da tutti i figlioli di Israele d'età in età e l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne questa è la norma della Pasqua nessuno o straniero ne mangi ma qualunque servo comprato a prezzo di denaro dopo che l'avrai circonciso potrà mangiarne l'avventizio e il mercenario non ne mangino si mangi ogni agnello in una medesima casa non portate fuori nulla della carne d'esso e non ne spezzate alcun osso tutta la radunanza Israele celebri la Pasqua e quando uno straniero soggiornerà a Teco e vorrà far la Pasqua in onore dell'Eterno siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia e poi s'accosti pure per farla e sia come un nativo del paese ma nessun incirconciso ne mangi siavi un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi tutti i figliuoli di Israele fecero così fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e ad Aronne e avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figliuoli di Israele dal paese d'Egitto secondo le loro schiere l'Esodo capitolo tredicesimo l'Eterno parlò a Mosè dicendo consacrami ogni primogenito tutto ciò che nasce primo tra i figliuoli di Israele tanto degli uomini quanto degli animali esso mi appartiene e Mosè disse al popolo ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto dalla casa di servitù poiché l'Eterno vi ha tratti fuori di questo luogo con mano potente non si mangi pane lievitato voi uscite oggi nel paese di Abib quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei degli Ittei degli Amorei degli Ivei e dei Gebusei che giurò ai vostri padri di darti paese dove scorra il latte e il miele osservate questo rito in questo mese per sette giorni mangia pane senza lievito il settimo giorno si faccia una festa all'Eterno si mangi pane senza lievito per sette giorni e non si vegga pan lievitato presso di te né i tuoi confini e in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo dicendo si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscì dall'Egitto e ciò ti sarà come un segno sulla tua mano come un ricordo fra i tuoi occhi affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente osserva dunque questa istituzione al tempo fissato d'anno in anno quando quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei cananei come giro a te e ai tuoi padri e te lo avrà dato consacra l'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene i maschi saranno dell'Eterno ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello e se non lo vuoi riscattare fiaccagli il collo riscatta anche ogni primogenito dell'uomo fra i tuoi figliuoli e quando in avvenire il tuo figliuolo ti interrogerà dicendo che significa questo gli risponderai l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto dalla casa di servitù con mano potente e avvenne che quando Faraone sostinò a non lasciarci andare l'Eterno uccise tutti i primogeniti del paese d'Egitto tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali perciò io santifico all'Eterno tutti i primi parti maschi ma riscatta ogni primogenito dei miei figliuoli ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un frontale fra i tuoi occhi poiché l'Eterno ci ha tratti dall'Egitto con mano potente or quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo e Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei perché era troppo vicina poiché Dio disse bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso e i figliuoli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto e Mosè prese secolo e ossa di Giuseppe perché questi aveva espressamente fatto giurare i figliuoli di Israele dicendo i Dio certo vi visiterà allora trasporterete di qui le mie ossa con voi e gli israeliti partiti da Sukkot si accamparono a Etham all'estremità del deserto e l'Eterno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli onde potessero camminare giorno e notte la colonna di nuvola non si ritirava mai di davanti al popolo di giorno nella colonna di fuoco di notte l'Esodo capitolo quattordicesimo e l'Eterno parlò a Mosè dicendo di ai figlioli di Israele che tornino indietro e si accampino di rimpetto a Pi Arisot fra Migdol e il mare di fronte a Baal Sefon accampatevi di faccia a quel luogo presso il mare e Faraone dirà dei figlioli di Israele si sono smarriti nel paese il deserto li tiene rinchiusi io li indurerò il cuore di Faraone ed egli li inseguirà ma io trarrò gloria da Faraone e da tutto il suo esercito e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno ed essi fecero così or fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito e il cuore di Faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo e quelli dissero che abbiamo fatto a lasciare andare Israele sì che non ci servano più e Faraone fece attaccare il suo carro e prese il suo popolo seco prese seicento carri scelti e tutti i carri d'Egitto e su tutti c'erano dei guerrieri e l'Eterno indurò il cuore di Faraone re d'Egitto ed egli inseguì i figlioli d'Israele che uscivano pieni di baldanza gli egiziani dunque li inseguirono e tutti i cavalli i carri di Faraone e i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre si erano accampati presso il mare vicino a Pi Harithoth di fronte a Baal-Sephon e quando Faraone si fu avvicinato i figlioli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marsciavano alle loro spalle ondebbero una grande paura e gridarono all'Eterno e dissero a Mosè mancavano mancavano forse sepolture in Egitto che ci hai menato a morire nel deserto poiché ci hai fatto quest'azione di farci uscire da Egitto non è egli questo che ti dicevamo in Egitto lasciaci stare che serviamo gli egiziani poiché meglio era per noi servire gli egiziani che morire nel deserto e Mosè disse al popolo non temete state fermi e mirate la liberazione dell'Eterno oggi l'Eterno compirà per voi perché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete quieti e l'Eterno disse a Mosè perché gridi a me dia ai figlioli di Israele che si mettano in marcia e tu alza il tuo bastone stendi la tua mano sul mare e dividilo e i figlioli di Israele entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti e quanto a me ecco io indurerò il cuore degli egiziani ed essi vi entreranno dietro a loro ed io trarrò gloria da Faraone da tutto il suo esercito dai suoi carri e dai suoi cavalieri e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno quando avrò tratto gloria da Faraone e dai suoi carri e dai suoi cavalieri allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si mosse e andò a posarsi alle loro spalle parimenti la colonna di nuvola si mosse dalla loro fronte e si fermò alle loro spalle e venne a mettersi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele e la nube era tenebrosa per gli uni mentre rischiarava gli altri nella notte e l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte or Mosè stesse la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte e ridusse il mare in terra asciutta e le acque si divisero e i figliuoli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra e gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli di Faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare e avvenne verso la vigilia del mattino che l'Eterno dalla colonna di fuoco e dalla nuvola guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta e tolse le ruote dei loro carri e ne resse l'avanzata pesante in guisa che gli egiziani dissero fuggiamo dinanzi ad Israele perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani e l'Eterno disse a Mosè stendi la tua mano sul mare e le acque ritornarono sugli egiziani sui loro carri e sui loro cavalieri e Mosè stesse la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza e gli egiziani fuggendo li andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare le acque tornarono e coprirono i carri e i cavalieri e tutto l'esercito di Faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti e non ne scampò neppure uno ma i figliuoli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti e Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo l'Esodo capitolo quindicesimo allora Mosè e i figliuoli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato ha precipitato in mare cavallo e cavaliere l'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico egli è stato la mia salvezza questo è il mio Dio io lo glorificherò è l'iddio di mio padre io lo esalterò l'Eterno è un guerriero il suo nome è l'Eterno egli è gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso gli abissi li coprono sono andati a fondo come una pietra la tua destra o Eterno è mirabile per la sua forza e la tua destra o Eterno schiaccia i nemici con la grandezza della tua maestà tu rovesci i tuoi avversari tu scateni la tua ira essa li consuma come stoppia al soffio delle tue nari le acque si sono ammontate le onde si sono drizzate come un muro i flutti si sono assodati nel cuore del mare il nemico diceva inseguirò raggiungerò dividerò le spoglie la mia brama si sazierà sul loro sguainerò la mia spada la mia mano li sterminerà ma tu hai mandato fuori il tuo soffio e il mare li ha ricoperti sono affondati come piombo nelle acque potenti chi è pari a te fra gli Dei o Eterno chi è pari a te mirabile nella tua santità tremendo anche a chi ti loda operatore di prodigi tu hai steso la destra la terra li ha ingoiati tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora i popoli l'hanno udito e tremano l'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia si sono smarriti i capi di Edom il tremito prende i potenti di Moab tutti gli abitanti di Canaan vengano meno spavento e terrore piomberà sul loro per la forza del tuo braccio diventerà muti come una pietra finché il tuo popolo eterno sia passato finché sia passato il popolo che ti sei acquistato tu li introdurrai e li pianterai sul monte del tuo retaggio nel luogo che hai preparato o eterno per la tua dimora nel santuario che le tue mani o Signore hanno stabilito l'Eterno regnerà per sempre in perpetuo questo cantarno gli israeliti perché i cavalli di Faraone coi suoi carri e i suoi cavalieri erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su loro le acque del mare ma i figlioli di Israele avevano camminato in mezzo al mare sull'asciutto e Maria la profetessa sorella d'Aaronne prese in mano il timpano e tutte le donne usciron dietro a lei con dei timpani e danzando e Maria rispondeva ai figlioli di Israele cantate all'Eterno perché si è sommamente esaltato e ha precipitato in mare cavallo e cavaliere poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed esse si diressero verso il deserto di Shur camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua e quando giunsero a Mara non poterono bevere le acque di Mara perché erano a mare perciò quel luogo fu chiamato Mara e il popolo mormorò contro Mosè dicendo e che berremo ed egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque e le acque divennero dolci quivi l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova e disse se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi l'orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco poi giunsero ad Elim dove erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme e si accamparono quivi presso le acque l'Esodo capitolo sedicesimo e tutta la radunanza dei figliuoli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sinche Efrae Lin e Sinai il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto e tutta la radunanza dei figliuoli di Israele mormorò mormorò contro a Mosè e contro a Ron nel deserto e figliuoli di Israele dissero loro oh fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto quando sedevamo sedevamo presso le pignate della carne e mangiavamo del pane a sazietà poiché voi ci avete menati in questo deserto per far morire di fame tutta la nostra radunanza e l'Eterno disse a Mosè ecco io vi farò piovere del pane dal cielo e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata un Dio lo metta alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge ma il sesto giorno quando prepareranno quello che avranno portato a casa esso sarà il doppio di quello che avranno raccolto ogni altro giorno e Mosè ed Aronne dissero a tutti i figliuoli di Israele questa sera voi conoscerete che l'Eterno è quelli che vi ha tratto fuori dal paese d'Egitto e domattina vedrete la gloria dell'Eterno poiché Egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno quanto a noi che cosa siamo perché mormoriate contro di noi e Mosè disse vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera Egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà già che l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di Lui quanto a noi che cosa siamo le vostre mormorazioni non sono contro di noi ma contro l'Eterno poi poi Mosè disse ad Aronne di a tutta la radunanza dei figlioli di Israele avvicinatevi alla presenza dell'Eterno perché Egli ha udito le vostre mormorazioni e come Aronne parlava a tutta la radunanza dei figlioli di Israele questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola e l'Eterno parlò a Mosè dicendo io ho udito le mormorazioni dei figlioli di Israele parla loro dicendo sull'imbrunire mangerete della carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono l'Eterno lì Dio vostro e avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricopersero il campo e la mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta tonda minuta come brina sulla terra e i figlioli di Israele veduta che lebbero dissero l'uno all'altro che cos'è perché non sapevano che cosa fosse e Mosè disse loro questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare ecco quel che l'Eterno ha comandato ne raccolga ognuno di quanto gli basta per il suo nutrimento un omer a testa secondo il numero delle vostre persone ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda e figlioli di Israele fescero così e ne raccolsero gli uni più e gli altri meno lo misurarono con l'ome e chi ne aveva raccolto molto non ebbe di soverchio e chi ne aveva raccolto poco non ebbe penuria ognuno ne raccolse quanto ne abbisognava per il suo nutrimento e Mosè disse loro nessuno ne serbi fino a domattina ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne serbarono fino all'indomani e quello inverminì e mandò fetore e Mosè sadirò contro costoro così lo raccoglievano tutte le mattine ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento e quando il sole si faceva caldo quello si struggeva e il sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio due omer per ciascuno e tutti i capi della radunanza lo vennero a dire a Mosè ed egli disse loro questo è quello che ha detto l'eterno domani è un giorno solenne di riposo un sabato sacro all'eterno fate cuoscere oggi quel che avete da cuoscere e fate bollire quel che avete da bollire e tutto quel che vi avanza riponetelo e serbatelo fino a domani essi dunque lo ripossero fino all'indomani come Mosè aveva ordinato e quello non di effettore e non si inverminì e Mosè disse mangiatelo oggi perché oggi è il sabato sacro all'eterno oggi non ne troverete per i campi raccoglietene durante sei giorni ma il settimo giorno che è il sabato in quel giorno non ve ne sarà or nel settimo giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per accoglierne e non se ne trovarono e l'eterno disse a Mosè fino a quando rifiuterete ed osservare i miei comandamenti e le mie leggi riflettete che l'eterno vi è dato il sabato per questo nel sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni ognuno stia dov'è nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno così il popolo si riposò il settimo giorno e la casa di Israele chiamò quel pane manna esso era simile al seme di un coriandolo era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele e Mosè disse questo è quello che l'eterno ha ordinato e in più un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti onde veggano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho tratti fuori dal paese d'Egitto e Mosè disse ad Aronne prendi un vaso mettivi dentro un intero omer di manna ed eponilo davanti all'eterno perché sia conservato per i vostri discendenti secondo l'ordine che l'eterno aveva dato a Mosè Aronne lo depose dinanzi alla testimonianza perché fosse conservato e i figliuoli di Israele mangiarono la manna per quarant'anni finché arrivarono in paese abitato mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan o l'omer e la decima parte dell'Efa l'Esodo capitolo dicesettesimo poi tutta la radunanza dei figliuoli di Israele partì dal deserto di Si marciando a tappe secondo gli ordini dell'eterno e si accampò a Rephidim e non c'era acqua da bere per il popolo allora il popolo contese con Mosè e disse dateci dell'acqua da bere e Mosè rispose loro perché contendete con me perché tentate l'eterno il popolo dunque patiquivi la sete e mormorò contro Mosè dicendo perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi i nostri figliuoli e il nostro bestiame e Mosè gridò all'eterno dicendo che farò io per questo popolo non andrà molto che mi lapiderà e l'eterno disse a Mosè passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va ecco io starò là dinanzi a te sulla roccia che è in Oreb tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meriba a motivo della contessa dei figliuoli di Israele e perché avevano tentato l'eterno dicendo l'eterno è egli in mezzo a noi sì o no allora venne Amalek a dar battaglia a Israele a Rephidim e Mosè disse a Giosuè facci una scelta d'uomini ed esci a combattere contro Amalek domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combattè contro Amalek e Mosè Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle e avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata Israele vinceva e quando la lasciava cadere vinceva Amalek or siccome le mani di Mosè s'erano fatte stanche essi presero una pietra gliela posero sotto ed egli vi si mise a sedere e Aronne e Ur gli sostenevano le mani l'uno da una parte l'altro dall'altra così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente mettendoli a fil di spada e l'Eterno disse a Mosè scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo la memoria di Amalek e Mosè edificò un altare al quale pose nome l'Eterno e la mia bandiera e disse la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno e l'Eterno farà guerra ad Amalek d'età in età l'Esodo capitolo diciottesimo or Getro sacerdote di Madian suoscero di Mosè udì tutto quello che Dio aveva fatto a favore di Mosè ed Israele suo popolo come l'Eterno aveva tratto Israele fuori dall'Egitto e Getro suoscero di Mosè prese Sefora moglie di Mosè che questi aveva rimandata e i due figliuoli di lei che si chiamavano l'uno Gershon perché Mosè aveva detto ho soggiornato in terra straniera e l'altro Eliezer perché aveva detto l'iddio del padre mio è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada di Faraone Getro dunque suoscero di Mosè venne a Mosè coi figliuoli e la moglie di lui nel deserto dove egli si era accampato al monte di Dio e mandò a dire a Mosè io Getro tuo suoscero vengo da te con la tua moglie e i tuoi due figliuoli con lei e Mosè uscì ad incontrare il suo suoscero gli si inchinò e lo baciò si informarono scambievolmente della loro salute poi entrarono nella tenda allora Mosè raccontò al suo suoscero tutto quello che l'Eterno aveva fatto a Faraone e agli Egiziani per amore di Israele tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati Getro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele liberandolo dalla mano degli Egiziani e Getro disse benedetto sia l'Eterno che vi ha liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano di Faraone e ha liberato il popolo dal gioco degli Egiziani ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli Dei tale si è mostrato quando gli Egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele e Getro o suoscero di Mosè prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio e Aronne e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suoscero di Mosè in presenza di Dio il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragione al popolo e il popolo stette attorno a Mosè dal mattino fino alla sera e quando il suoscero di Mosè vide tutto quello che gli faceva per il popolo disse che è questo che tu fai col popolo perché si è di solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera e Mosè rispose al suo suoscero perché il popolo viene da me per consultare i Dio quando essi hanno qualche affare vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro e fa loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi ma il suoscero di Mosè gli disse questo che tu fai non va bene tu ti esaurirai certamente tu e questo popolo che teco poiché quest'affare è troppo grave per te tu non puoi bastarvi da solo or ascolta la mia voce io ti darò un consiglio e Dio sia teco sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale anda a camminare e quello che devono fare ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temono il Dio degli uomini fidati che detestino il lucro iniquo e stabilisci sul popolo come capi di migliaia capi di centinaia capi di cinquantine e capi di decine e rendano essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza ma ogni piccolo affare lo decidano da loro allevia così il peso che grava su te e lo portino essi teco se tu fai questo e se Dio te l'ordina potrai durare e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto e Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo capi di migliaia capi di centinaia capi di cinquantine e capi di decine e quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo le cause difficili le portavano a Mosè ma ogni piccolo affare lo decidevano loro poi Mosè accomiatò il suo suocero il quale se ne tornò al suo paese l'esodo capitolo diciannovesimo nel primo giorno del terzo mese da che furono usciti dal paese d'Egitto i figliuoli di Israele giunsero nel deserto di Sinai essendo partiti da Refidim giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto qui vi si accampò Israele di rimpetto al monte e Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figliuoli di Israele voi avete veduto quello che io ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali di Aquila e vi ho menato a me or dunque se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele e Mosè venne chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire e tutto il popolo rispose concordamente e disse noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo e l'Eterno disse a Mosè ecco io verrò a te in una folta nuvola affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre e Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo allora l'Eterno disse a Mosè vada al popolo santificalo oggi e domani e fa che si lavi le vesti e siano pronti per il terzo giorno perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai e tu fisserai attorno attorno dei limiti al popolo e dirai guardatevi dal salire sul monte e dal toccare il lembo chiunque toccherà il monte sarà messo a morte nessuna mano tocchi quel tale ma sia lapidato o trafitto di frecce animale o uomo che sia non si è lasciato vivere quando il corno sonerà distesa allora salgono pure sul monte e Mosè scese dal monte verso il popolo santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti ed egli disse al popolo siate pronti fra tre giorni non v'accostate a donna il terzo giorno come fu mattino cominciarono dei tuoni dei lampi e apparve una folta nuvola sul monte e sudìo un fortissimo suono di tromba e tutto il popolo che era nel campo tremò e Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio e si fermarono a piede al monte ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vera disceso in mezzo al fuoco e il fumo ne saliva come il fumo d'una fornace e tutto il monte tremava forte e il suono della tromba s'andava facendo sempre più forte Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce l'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè vi salì e l'Eterno disse a Mosè scendi avverti solennemente il popolo onde non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non abbiano a perire molti e anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santificano affinché l'Eterno non si avventi contro a loro Mosè disse all'Eterno il popolo non può salire sul monte Sinai perché tu ce l'hai divietato dicendo poni dei limiti attorno al monte e santificalo ma l'Eterno gli disse va scendi a basso poi salirai tu e Aaron e Teco ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno onde non si avventi contro a loro Mosè discese al popolo e glielo disse l'Esodo capitolo ventesimo allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo io sono l'Eterno l'Idio tuo che ti ho tratto dal paese d'Egitto dalla casa di servitù non avere altre dii nel mio cospetto non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tale cose e non servire loro perché io l'Eterno l'Idio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri suoi figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mamano e osservano i miei comandamenti non usare il nome dell'Eterno che è l'Idio tuo in vano perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano ricordati del giorno del riposo per santificarlo lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua ma il settimo è giorno di riposo sacro all'Eterno che è l'Idio tuo non fare in esso lavoro alcuno né tu né il tuo figliuolo né la tua figliuola né il tuo servo né la tua serva né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro le tue porte poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli la terra il mare e tutto ciò che è in essi e si riposò il settimo giorno perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno l'Idio tuo ti dà non uccidere non commettere adulterio non rubare non attestare il falso contro il tuo prossimo non concupire la cosa del tuo prossimo non concupire la moglie del tuo prossimo né il suo servo né la sua serva né il suo bue né il suo asino né cosa alcuna che sia del tuo prossimo or tutto il popolo udiva i tuoni e il suon della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante a tal vista tremava e se ne stava da lungi e disse a Mosè parla tu con noi e noi ti ascolteremo ma non ci parli Dio che non abbiamo a morire e Mosè disse al popolo non temete poiché il Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia d'innanzi e così non pecchiate il popolo dunque se ne stava da lungi ma Mosè si avvicinò alla Caligine dove era il Dio e l'Eterno disse a Mosè di così ai figlioli di Israele voi stessi avete visto che io v'ho parlato dai cieli non fate altri Dio accanto a me non vi fate Dio d'argento né Dio d'oro fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti i tuoi sacrifici di azioni di grazie le tue pecole i tuoi buoi in qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato io verrò a te e ti benedirò e se mi fai un altare di pietre non lo costruire di pietre tagliate perché se tu alzassi su di esse lo scarpello tu le contamineresti e non salire al mio altare per gradini affinché la tua nudità non si scovra sovresso esodo capitolo ventunesimo or queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro se compri un servo ebreo egli ti servirà per sei anni ma il settimo se ne andrà libero senza pagar nulla se è venuto solo se ne andrà solo se aveva moglie la moglie se ne andrà con lui se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figlioli e figliole la moglie e i figlioli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo ma se il servo fa questa dichiarazione io amo il mio padrone mia moglie e i miei figlioli io non voglio andarmene libero allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipide e il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre se uno vende la propria figliola per essere serva ella non se ne andrà come se ne vanno i servi se la dispiace al suo padrone che se l'era presa per moglie egli le farà riscattare ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera dopo essere stato infedere con lei e se la darà in sposa al suo figliolo la tratterà secondo il diritto delle fanciulle se prende un'altra moglie non toglierà alla prima né il vitto né il vestire né la coabitazione se non le fa queste tre cose ella se ne andrà senza pagamento di prezzo chi percuote un uomo sì che gli muoia deve essere messo a morte se non gli è teso agguato ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano io ti stabilirò un luogo dove essi potrà rifugiare se alcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte chi ruba un uomo sia che l'abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani deve essere messo a morte chi maledisce suo padre o sua madre deve essere messo a morte se degli uomini vengono a rissa e uno percuote l'altro con una pietra col pugno e quello non muoia ma debba mettersi a letto se si riveleva e può camminare fuori appoggiato col suo bastone colui che lo percosse sarà assolto soltanto lo idennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta se uno percuote il suo servo la sua serva col bastone si che gli muoiano fra le mani il padrone deve essere punito ma se sopravvivono un giorno due non sarà punito perché son denaro suo se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta si che ella si sgravi ma senza che ne segua altro danno il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici ma se ne segue danno darai la vita per vita occhio per occhio dente per dente mano per mano piede per piede scottatura per scottatura ferita per ferita contusione per contusione se uno colpisce l'occhio del suo servo o l'occhio della sua serva egli lo fa perdere li lascerà andare libero in compenso dell'occhio perduto e se fa cadere un dente al suo servo o un dente alla sua serva li lascerà andare libero in compenso del dente perduto se un bue cozza un uomo o una donna si che muoia il bue dovrà esserla guidato e non se ne mangerà la carne ma il padrone del bue sarà assolto però se il bue era già da tempo uso cozzare il padrone ne è stato avvertito ma non l'ha tenuto rinchiuso e il bue ha ucciso un uomo o una donna il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte ove sia imposto al padrone un prezzo di riscatto egli pagherà per il riscatto della propria vita tutto quello che gli sarà imposto se il bue cozza un figliuolo o una figliuola gli si applicherà questa medesima legge se il bue cozza un servo o una serva il padrone del bue pagherà al padrone del servo trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato se uno apre una fossa o se uno scava una fossa e non la copre e un bue o un asino vi cade dentro il padrone della fossa rifarà il danno pagherà in danaro il valore della bestia al padrone e la bestia morta sarà sua se il bue d'un uomo ferisce il bue d'un altro sì che esso muoia si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo e anche il bue morto sarà diviso fra loro se poi è noto che quel bue già da tempo era uso cozzare il suo padrone non l'ha tenuto rinchiuso come doveva questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua l'esodo capitolo ventiduesimo se uno ruba un bue o una pecore e li ammazza o li vende restituirà cinque boi per il bue e quattro pecore per la pecora se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso è percosso e muore non vè delitto d'omicidio se il sole era levato quando avvenne il fatto vi sarà delitto d'omicidio il ladro dovrà risarcire il danno se non ha di che risarcirlo sarà venduto perciò che ha rubato se il furto bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani restituirà il doppio se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna lasciandolo andare le sue bestie appascele in quel campo risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna se divampa un fuoco e si attacca le spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno se uno affida al suo vicino del denaro degli oggetti da custodire e questi siano rubati dalla casa di quest'ultimo se il ladro si trova restituirà il doppio se il ladro non si trova il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino in ogni caso di delitto sia che si tratti d'un bue o d'un asino o d'una pecora o d'un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica è questo qui la causa d'ambe due le parti verrà dinanzi a Dio colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che si siano testimoni interverrà fra le due parti il giuramento dell'Eterno per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino il padrone della bestia si contenterà del giuramento e l'altra non sarà tenuto a rifacimento di danni ma se la bestia gli è stata rubata egli dovrà risarcire del danno al padrone d'essa se la bestia è stata sbranata la produrrà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resti stoppiata o muoia essendo assente il padrone d'essa egli dovrà rifare il danno se il padrone è presente non v'è luogo al risarcimento di danni se la bestia è stata presa a nolo essa è compresa nel prezzo del nolo se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giasce con lei dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela paghi la somma che si suol dare per le fanciulle non lascerai vivere la strega chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte chi offre sacrifici ad altri dèi fuori che all'eterno solo sarà sterminato come anatema non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano se in qualche modo li affliggi odessi gridano a me io udrò senza dubbio il loro grido la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figlioli orfani se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo al povero che teco non lo tratterai da usuraio non gli imporai interesse se prendi impegno il vestito del tuo prossimo glielo renderai prima che tramonti il sole perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo su che dormirebbe egli e se avverrà che gli gridi a me io udrò perché sono mesiricordioso non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo non indugierai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi mi darai il primo genito dei tuoi figlioli lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre l'ottavo giorno me lo darai voi mi sarete degli uomini santi non mangerete carne di bestia trovata sbrannata nei campi gettatela ai cani l'esodo capitolo ventitreesimo non spargere alcuna voce calugnosa e non tenere mano all'empio nell'attestare il falso non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte dei più per pervertire la giustizia parimente non favorire il povero nel suo processo se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito non mancare di ricondurgerlo se vedi l'asino di colui che todia stesso a terra sotto il carico guardati bene dall'abbandonarlo ma aiuta il suo padrone a scaricarlo non violare il diritto del povero del tuo popolo nel tuo processo rifugi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto perché io non assolverò il malvagio non accettar presenti perché il presente acceca quelli che ci veggon chiaro e perverte le parole dei giusti non opprimere lo straniero voi lo conoscete l'animo dello straniero giacché siete stati stranieri nel paese d'Egitto per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai dei frutti ma il settimo anno la lascerai riposare e rimarrai incolta i poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi olivi per sei giorni farai il tuo lavoro ma il settimo giorno ti riposerai affinché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi e il figliolo della tua serva e il forestiero possono riprendere fiato porrete benmente a tutte le cose che io vi ho detto e non pronunzierete il nome di dei stranieri non lo si oda uscire dalla vostra bocca tre volte all'anno mi celebrerai una festa osserverai la festa degli azimi per sette giorni mangerai pane senza lievito come te l'ho ordinato al tempo stabilito nel mese di Abib perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote osserverai la festa della mietitura delle premizie del tuo lavoro di quello che avrai seminato nei campi e la festa della raccolta alla fine dell'anno quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro tre volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore l'Eterno non offrirai il sangue della mia vittima insieme col pane lievitato e il grasso dei sacrifici della mia festa non sarà serbato durante la notte fino al mattino porterai alla casa dell'Eterno che è il tuo Dio le primizie dei primi frutti della terra non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre ecco io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato si guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce non ti ribellare a lui perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni poiché il mio nome è in lui ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari poiché il mio angelo andrà dinanzi a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei degli Ittei dei Faresei dei Cananei degli Ivei dei Gabusei e li sterminerò tu non ti prostrerai davanti ai loro dèi e non servirai loro non farai quello che si fanno ma distruggerai interamente quegli dèi e spezzerai le loro colonne servirete all'Eterno che è il vostro Dio ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e io allontanerò la malattia di mezzo a te nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca né donna sterile io farò completo il numero dei tuoi giorni io manderò davanti a te il mio terrore e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle dinanzi a tutti i tuoi nemici e manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli Ivei i Cannei gli Ittei dal tuo cospetto non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino contro a te li scaccerò dal tuo cospetto a poco a poco finché tu cresca di numero e possa prendere possesso del paese e fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso al mare dei Filistei e dal deserto sino al fiume poiché io vi darò nelle mani gli abitanti del paese e tu li scaccerai dinanzi a te non farai leanza di sorta con loro né coi loro dei non dovranno abitare nel tuo paese perché non ti inducono a peccare contro a me tu serviresti ai loro dei e questo ti sarebbe un laccio l'esodo capitolo ventiquattresimo poi Dio disse a Mosè sale all'eterno tu ed Aronne Nabat Habihu e settanta degli anziani di Israele e adorate da lungi poi Mosè solo s'accosterà all'eterno ma gli altri non s'accosteranno né salirà il popolo con lui e Mosè venne riferì al popolo tutte le parole dell'eterno e tutte le leggi e tutto il popolo rispose ad una voce e disse noi faremo tutte le cose che l'eterno ha dette poi Mosè scrisse tutte le parole dell'eterno e levattosi di buon'ora la mattina e resse a piede del monte un altare e dodici pietre per le dodici tribù di Israele e mandò dei giovani tra i figlioli di Israele a offrire locausti a immolare i giovenchi come sacrifici di azioni di grazia all'eterno e Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini e l'altra metà la sparse sull'altare poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo il quale disse noi faremo tutto quello che l'eterno ha detto e ubbidiremo allora Mosè prese il sangue ne asperse il popolo e disse ecco il sangue del patto che l'eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole poi Mosè ed Aronne Nadab e Abihud e settanta degli anziani di Israele salirono e videro lì Dio di Israele sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente e zafiro e simile per l'impidezza al cielo stesso ed egli non mise la mano addosso a quegli eletti tra i figlioli di Israele ma essi videro lì Dio e mangiarono e bevero e l'eterno disse a Mosè sali da me sul monte e fermati quivi e io ti darò delle tavole di pietra la legge e i comandamenti che ho scritti perché siano insegnati ai figlioli di Israele e Mosè dunque si levò con Giosuè suo ministro e Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani aspettateci qui finché torniamo a voi ecco Aronne e Ur sono con voi chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoperse il monte e la gloria dell'eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola lo ricoperse per sei giorni e il settimo giorno l'eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola e l'aspetto della gloria dell'eterno era agli occhi dei figlioli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte e Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte e Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti l'esodo capitolo venticinquesimo l'eterno parlò a Mosè dicendo dia ai figlioli di Israele che mi facciano un'offerta accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore e questa è l'offerta che accetterete da loro oro argento e rame stoffe di colore violaceo porporino scarlatto lino fino e pel di capra pelle di montone tinte di rosso pelle di delfino e legno d'acacia olio per il candelabro aromi per l'olio della unzione per il profumo odoroso pietre di onisce e pietre di incastonare per l'efode e il pettorale e mi facciano un santuario perché io abito in mezzo a loro me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti faranno dunque un'arca di legno d'acacia e la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e mezzo e la sua altezza di un cubito e mezzo la rivestirai d'oro puro la rivestirai così di dentro e di fuori e le farai al di sopra una ghirlanda d'oro che giri intorno fonderai per essa quattro anelli d'oro che metterai ai suoi quattro piedi due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato farai anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro e farai passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca perché servano a portarla le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno tratte fuori e metterai nell'arca la testimonianza che io ti darò farai anche un propiziatorio d'oro puro e la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e mezzo e farai due cherubini d'oro li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio fa un cherubino e una dell'estremità e un cherubino all'altra farete che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità e i cherubini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali avranno la faccia volta l'un verso l'altro le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio e metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò quivi io mi incontrerò teco e di sul propiziatorio di fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figliuoli di Israele farai anche una tavola di legno da caccia la sua lunghezza sarà di due cubiti la sua larghezza di un cubito e la sua altezza di un cubito e mezzo la rivestirai d'oro puro e le farai una ghirlanda d'oro che li giri intorno le farai l'intorno una cornice alta quattro dita e a questa cornice farai tutt'intorno una ghirlanda d'oro le farai pure quattro anelli d'oro e metterai gli anelli ai quattro canti ai quattro piedi della tavola gli anelli saranno vicinissimi alla cornice per farvi passare le stange destinate a portare la tavola e le stange le farai di legno da cascia e le rivestirai d'oro e serviranno a portare la tavola farai pure i suoi piatti e le sue coppe i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni e li farai d'oro puro e metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà del continuo nel mio cospetto farai anche un candelabro d'oro puro il candelabro il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello i suoi calici i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti d'un pezzo col candelabro gli usciranno sei bracci dai lati tre bracci dal candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro sull'uno dei bracci saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore e sull'altro braccio tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici in forma di mandorla con loro pomi e loro fiori ci sarà un pomo sotto i tuoi bracci che portano dal candelabro un pomo sotto i due seguenti bracci e un pomo sotto i due ultimi bracci che partano dal candelabro così per i sei bracci uscenti dal candelabro questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro in tutto sarà d'oro fino lavorato col martello farai pure le sue lampade il numero di sette e le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari il davanti del candelabro e i suoi smoccolatoi e i suoi porta smoccolature saranno d'oro puro per fare il candelabro con tutti questi tuoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro e vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte l'esodo capitolo ventiseesimo farai poi il tabernacolo di dieci teli di lino fino ritorto di filo color violaceo porporino e scarlatto con dei cherubini artisticamente lavorati la lunghezza di ogni telo sarà di ventotto cubiti e la larghezza di ogni telo di quattro cubiti tutti i teli saranno d'una stessa misura cinque teli saranno uniti assieme e gli altri cinque teli saranno pure uniti assieme farai dei nastri di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e lo stesso farai all'orlo di telo che è all'estremità della seconda serie metterai cinquanta nastri al primo telo e metterai cinquanta nastri all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli i nastri si corrisponderanno l'uno all'altro e farai cinquanta fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante fermagli perché il tabernacolo formi un tutto farai pure dei teli di pel di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo di questi teli ne farai undici la lunghezza d'ogni telo sarà di trenta cubiti e la larghezza d'ogni telo di quattro cubiti gli undici teli avranno la stessa misura unirai assieme da sé cinque di questi teli e unirai da sé gli altri sei e addoppierai il sesto sulla parte anteriore della tenda e metterai cinquanta nastri all'orlo del telo che sei all'estremità della prima serie e cinquanta nastri all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli e farai cinquanta fermagli di rame e farai entrare i fermagli dei nastri e unirai così la tenda in modo che formi un tutto quanto alla parte che rimane di sopra giù dei teli della tenda la metà del telo di sopra giù ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo e il cubito da una parte e il cubito dell'altra parte che saranno di sopra giù nella lunghezza dei teli della tenda ricadranno sui due lati del tabernacolo di qua e di là per coprirlo farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone e tinte di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino farai per il tabernacolo delle assi di legno di acacia messe per ritto la lunghezza d'un'asse sarà di dieci cubiti e la larghezza ad un'asse di un cubito e mezzo ogni asse avrà due incastri paralleli farai così per tutte le assi del tabernacolo farai dunque le assi per il tabernacolo venti assi del lato meridionale verso il sud metterai quaranta basi d'argento sotto le venti assi due basi sotto ciascun'asse per i suoi due incastri e farai venti assi per il secondo lato del tabernacolo al lato di nord e le loro quaranta basi d'argento due basi sotto ciascun'asse e per la parte posteriore del tabernacolo verso occidente farai sei assi farai pure due assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutto fino in cima fino al primo anello così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli vi saranno dunque otto assi con le loro basi d'argento sedici basi due basi sotto ciascun'asse farai anche delle traverse di legno da cascia cinque per le assi di un lato del tabernacolo cinque traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e cinque traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente la traversa di mezzo in mezzo alle assi passerà da una parte all'altra e rivesterai d'oro le assi e farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse erigerai il tabernacolo sotto la forma esatta che te ne è stata mostrata sul monte farai un velo di filo violaceo porporino scarlato e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a quattro colonne di acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e passeranno su basi d'argento metterai il velo sotto i fermagli e quivi al di là del velo introdurrai l'arca della testimonianza quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal santissimo e metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo e metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di rimpetto alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo e metterai la tavola dal lato di settentrione farai pure per l'ingresso della tenda una portiera di filo violascio porporino scarlatto e di lino fino ritorto in lavoro di ricamo e farai cinque colonne di acacia per sospendervi la portiera le rivestirai d'oro e avranno i chiodi d'oro e tu fonderai per esse cinque basi di rame l'esodo capitolo ventisettesimo farai anche un altare di legno d'acacia lungo cinque cubiti e largo cinque cubiti l'altare sarà quadrato e avrà tre cubiti d'altezza farai ai quattro angoli dei corni che spuntino dall'altare il quale rivestirai di rame farai pure i suoi vasi per accogliere le ceneri le sue palette i suoi bacini i suoi forchettoni i suoi braceri tutti i suoi utensili li farai di rame e gli farai una gratella di rame in forma di rete e sopra la rete i suoi quattro canti farai quattro anelli di rame e la porrai sotto la cornice dell'altare nella parte inferiore in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare farai anche delle stange per l'altare delle stange di legno da cascia e le rivestirai di rame e si faranno passare le stange per gli anelli e le stange saranno ai due lati dell'altare quando lo si dovrà portare lo farai di tavole vuoto dovrà essere fatto con forme come ti è stato mostrato sul monte farai anche il cortile del tabernacolo dal lato meridionale ci saranno per formare per formare il cortile delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di cento cubiti per un lato questo lato avrà venti colonne con le loro venti basi di rame i chiodi e le aste delle colonne saranno d'argento così pure per il lato di settentrione per lungo ci saranno delle cortine lungo cento cubiti con venti colonne e le loro venti basi di rame i chiodi e le aste delle colonne saranno d'argento e per largo dal lato d'occidente il cortile avrà cinquanta cubiti di cortine con dieci colonne e le loro dieci basi e per largo sul davanti del lato orientale il cortile avrà cinquanta cubiti da uno dei lati d'ingresso ci saranno quindici cubiti di cortine con tre colonne e le loro basi e dall'altro lato pure ci saranno quindici cubiti di cortine con le tre colonne e le loro tre basi per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera di venti cubiti di filo violaceo porporino scarlatto e di lino fino e ritorto in lavoro di ricamo con quattro colonne e le loro quattro basi tutte le colonne attorno al cortile saranno congiunte con delle asse d'argento i loro chiodi saranno d'argento e le loro basi di rame la lunghezza del cortile sarà di cento cubiti la larghezza di cinquanta da ciascun lato e l'altezza di cinque cubiti le cortine saranno di lino fino ritorto e le basi delle colonne di rame tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo tutti i suoi fioli e tutti i fioli del cortile saranno di rame ordinerai ai figlioli di israele che ti portino dell'olio d'oliva puro vergine per il tabernacolo per tenere la lampada continuamente accesa nella tenda di convegno fuori del velo che sta davanti alla testimonianza aronne e i suoi figlioli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'eterno questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti da essere osservata dai figlioli di israele l'esodo capitolo ventotesimo e tu fa accostare a te di tra i figlioli di israele aronne tuo fratello e i suoi figlioli con lui perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti aronne nadab abihu eleazar e itamar figlioli d'aronne e farai ad aronne tuo fratello dei parimenti sacri come insegne della loro dignità e come ornamento parlerai a tutti gli uomini intelligenti i quali io ho ripieni di spirito di sapienza ed essi faranno i paramenti d'aronne per consacrarlo onde mi eserciti l'ufficio di sacerdote e questi sono i paramenti che faranno un pettorale un efod un manto una tunica lavorata a maglia una mitra e una cintura faranno dunque dei paramenti sacri per aronne tuo fratello e per i suoi figlioli affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti essi serviranno d'oro di filo violaceo porporino scarlato e di lino fino faranno l'efod d'oro di filo violaceo porporino scarlato e di lino fino ritorto lavorato artisticamente esso avrà alle due estremità due spallette che si uniranno in guisa che esso si terrà bene insieme e la cintura artistica che è sull'efod per fissarlo sarà del medesimo lavoro dell'efod e tutto d'un pezzo con esso sarà d'oro di filo color violaceo porporino scarlato e di lino fino ritorto e prenderai due pietre donisce e vinciderai su i nomi dei figlioli di Israele sei dei loro nomi sopra una pietra e gli altri sei nomi sopra la seconda pietra secondo il loro ordine di nascita inciderai su queste due pietre i nomi dei figlioli di Israele come fai lapidario come si incide un sigillo le farai incastrare in castoni d'oro metterai le due pietre sulle spallette dell'efod come pietre di ricordanza per i figlioli di Israele e Aronne porterai i loro nomi davanti all'Eterno sulle due spallette per ricordanza e farai dei castoni d'oro e due catenelle d'oro puro che intreccerai a mod di cordone e metterai nei castoni le catenelle così intrecciate farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato lo farai come il lavoro dell'efod d'oro di filo violaceo porporino scarlato e di lino fino ritorto sarà quadrato e doppio avrà la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza e vi incastonerai un fornimento di pietre quattro ordini di pietre nel primo ordine sarà un sardonio un topazio e uno smeraldo nel secondo ordine un rubino uno zaffiro un calcedonio nel terzo ordine uno pale un agata e un ametista e nel quarto ordine un grisolito un onisce e un diaspro queste pietre saranno incastrate nei loro castoni d'oro e le pietre corrisponderanno ai nomi dei figlioli di Israele e saranno dodici secondo i loro nomi saranno incise come dei sigilli ciascuna col nome di una delle tribù di Israele farai pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro intrecciate a mod di cordoni poi farai sul pettorale due anelli d'oro e metterai i due anelli alle estremità del pettorale fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli all'estremità del pettorale e attaccherai gli altri due capi dei due cordoni ai due castoni e li metterai sulle due spallette dell'Ephod sul davanti e farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale sull'orlo interiore verso l'Ephod farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spallette dell'Ephod in basso sul davanti vicino al punto dove avviene la giuntura al di sopra della cintura artistica dell'Ephod e si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'Ephod con un cordone violaceo affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'Ephod e non si possa staccare dall'Ephod così Aronne porterai i nomi dei figliuoli d'Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore quando entrerà nel santuario per conservarne del continuo la ricordanza dinanzi all'Eterno metterai sul pettorale del giudizio e il tummim e staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti all'Eterno così Aronne porterà il giudizio dei figliuoli d'Israele sul suo cuore davanti all'Eterno del continuo farai anche il manto dell'Ephod tutto di colore violaceo esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo e l'apertura avrà all'intorno un'orlatura tessuta come l'apertura ad una corazza perché non si strappi all'orlo inferiore del manto tutta l'intorno farai delle melagrane di color violaceo porporino e scarlato e in mezzo ad esse d'ogni intorno porrai dei sonagli d'oro un sonaglio d'oro e un melagrana un sonaglio d'oro e una melagrana sull'orlo del manto tutto intorno Aronne se lo metterà per fare il servizio quando egli entrerà nel luogo santo dinanzi all'Eterno e quando ne uscirà sudrà il suono ed egli non morrà e farai che una lamina d'oro puro e sovresse inciderai come si incide sopra un sigillo santo all'Eterno la fisserai ad un nastro violaceo sulla mitra e starà sul davanti della mitra starà sulla fronte d'Aronne e Aronne porterà le iniquità commesse dai figlioli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte ed essa starà continuamente sulla fronte di Lui per renderli graditi nel cospetto dell'Eterno farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia farai una mitra di lino fino e farai una cintura di lavoro di ricamo per i figlioli e li consacrerai e li santificherai perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità esse andranno dai fianchi fino alle cosce aronne e i suoi figlioli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno e quando si accosteranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo affinché non si rendano colpevoli e non muoiano questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui l'esodo capitolo ventinovesimo questo è quello che farai per consacrarli perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti prendi un giovenco e due montoni senza difetto dei pani senza lievito delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte d'olio tutte queste cose farai di fior di farina di grano le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere al tempo stesso del giovenco e dei due montoni farai avvicinare Aronne e i suoi figlioli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua poi prenderai i paramenti e vestirai Aronne della tunica del manto dell'efod dell'efode del pettorale e lo cingerai della cintura artistica dell'efod gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema poi prenderai dell'olio dell'unzione glielo spanderai sul capo e l'ungerai farai quindi accostare i suoi figlioli e li vestirai delle tuniche cingerai Aronne i suoi figlioli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle tiare e il sacerdozio apparterà loro per legge perpetua così consacrerai Aronne i suoi figlioli poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno e Aronne e i suoi figlioli poseranno le mani sul capo del giovenco e scannerai il giovenco davanti all'eterno all'ingresso della tenda di convegno e prenderai del sangue del giovenco e ne metterai del dito sui corni dell'altare e spanderai tutto il sangue a piede dell'altare prenderai pure tutto il grasso che copre l'interiora la rete che è sopra il fegato i due arnioni e il grasso che vè sopra e farai fumare tutto sull'altare ma la carne del giovenco la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai col fuoco fuori del campo è un sacrificio per il peccato poi prenderai uno dei montoni e Aronne e i suoi figlioli poseranno le loro mani sul capo del montone e scannerai il montone ne prenderai il sangue e lo spanderai sull'altare tutto all'intorno poi farai a pezzi il montone laverai le sue interiore le sue gambe le metterai sui pezzi e sulla sua testa e farai fumare tutto il montone sull'altare è un olocausto all'eterno è un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'eterno poi prenderai l'altro montone e Aronne e i suoi figlioli poseranno le loro mani sul capo del montone scannerai il montone prenderai del suo sangue lo metterai sull'estremità dell'orecchio destro d'Aron e sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figlioli e sul pollice della loro man destra e sul dito grosso del loro pied destro espanderai il sangue sull'altare tutto all'intorno e prenderai del sangue che è sull'altare dell'olio dell'unzione e ne spargerai Aronne e i suoi paramenti e i suoi figlioli e i paramenti dei suoi figlioli con lui così saranno consacrati lui i suoi paramenti i suoi figlioli e i loro paramenti con lui prenderai pure il grasso del montone la coda il grasso che copre l'interiore la rete del fegato i due arnioni e il grasso che aveva sopra e la coscia destra perché è un montone di consacrazione prenderai anche un pane una focaccia oliata e una galletta dal paniere degli azimi che è davanti all'eterno e porrai tutte queste cose sulle palme delle mani d'Aronne sulle palme delle mani dei suoi figlioli e le agiterai come offerta agitata davanti all'eterno poi le prenderai dalle loro mani e le farai fumare sull'altare sopra l'olocausto come un profumo soave davanti all'eterno è un sacrificio fatto mediante il fuoco all'eterno e prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione d'Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti all'eterno e questa sarà la tua parte e consacrerai di ciò che spetta d'Aronne e ai suoi figlioli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato esso apparterà ad Aronne e ai suoi figlioli per legge perpetua da osservarsi dai figlioli di Israele poiché è un'offerta fatta per elevazione sarà un'offerta fatta per elevazione dai figlioli di Israele nei loro sacrifici di azioni di grazie la loro offerta per l'elevazione sarà per l'eterno e i paramenti sacri di Aronne saranno dopo di lui per i suoi figlioli che se li metteranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione quello dei suoi figlioli che gli succederà nel sacerdozio li indosserà per sette giorni quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo poi prenderai il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in un luogo santo e Aronne e i suoi figlioli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere mangeranno le cose che avranno servito a fare le spiazioni per consacrarli e santificarli ma nessun estraneo ne mangerà perché sono cose sante e se rimarrà della carne della consacrazione del pane fino alla mattina dopo brucerai quel resto col fuoco non lo si mangerà perché è cosa santa eseguirai dunque riguardo ad Aronne e i suoi figlioli tutto quello che ti ho ordinato li consacrerai durante sette giorni e ogni giorno offrirai un giovenco come sacrificio per il peccato per fare l'espiazione purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lungerai per consacrarlo per sette giorni farai l'espiazione dell'altare e lo santificherai e l'altare sarà santissimo tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo or questo è ciò che offrirai sull'altare due agnelli di un anno ogni giorno del continuo uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire col primo agnello offrirai la decima parte di un'efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un indolio vergine e una libazione di un quarto di indivino il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire la accompagnerai con la stessa liblazione con la stessa oblazione della mattina è un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco all'eterno sarà un olocausto perpetuo offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti all'eterno dove io vi incontrerò per parlare qui con te e là io mi troverò coi figliuoli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria e santificherò la tenda di convegno e l'altare anche Aronne e i suoi figliuoli li santificherò perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti e dimorerò in mezzo ai figlioli di Israele e sarò il loro Dio ed essi conosceranno che io sono l'eterno lì Dio loro che li ho tratti dal paese d'Egitto per dimorare tra loro io sono l'eterno lì Dio loro l'esodo capitolo trentesimo farai pure un altare per bruciarvi su il profumo lo farai di legno d'acacia la sua lunghezza sarà di un cubito la sua larghezza di un cubito sarà quadro e avrà un'altezza di due cubiti i suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso lo rivestirai d'oro puro il di sopra i suoi lati tutti intorno i suoi corni e gli farai una ghirlanda d'oro che gli giri intorno e gli farai due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati li metterai ai suoi due lati per passarvi le stange che serviranno a portarlo farai le stange di legno d'acacia e le rivestirai d'oro e collocherai l'altare davanti al velo che è dinnanzi all'arca della testimonianza di faccia propiziatorio che sta sopra alla testimonianza dove io mi ritroverò con te e Aronne vi brucerà su quel profumo fragrante lo brucerà ogni mattina quando acconcerà le lampade e quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'eterno di generazione in generazione non offrirete sovresso né profumo straniero né olocausto né oblazione e non vi farete libazione e Aronne farà una volta all'anno l'espiazione sui corni d'esso col sangue del sacrificio dell'espiazione per il peccato vi farà l'espiazione una volta all'anno di generazione in generazione sarà cosa santissima sacra l'eterno l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo quando farai il conto dei figliuoli di Israele facendone il censimento ognun dessi darà all'eterno il riscatto della propria persona quando saranno contati onde non siano colpiti da qualche piaga allorché farai il loro censimento e daranno questo chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo ciclo secondo il ciclo del santuario che è diventi ghere un mezzo ciclo sarà l'offerta da fare all'eterno ognuno che sarà compreso nel censimento dai venti anni in su darà quest'offerta all'eterno il ricco non darà di più né il povero darà di meno del mezzo ciclo quando si farà quest'offerta all'eterno per il riscatto delle vostre persone prenderai dunque dei figlioli di israele questo denaro di riscatto e lo adoperai per il servizio della tenda di convegno sarà per i figlioli di israele una ricordanza dinanzi all'eterno per fare il riscatto delle vostre persone l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo farai pure una conca di rame con le sue basi di rame per le abluzioni la porrai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua e Aronne e i suoi figlioli vi si laveranno le mani e i piedi quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con l'acqua onde non abbiano a morire così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio per far fumare un'offerta fatta all'eterno mediante il fuoco si laveranno le mani e i piedi onde non abbiano a morire questa sarà una norma perpetua per loro per Aronne e per la sua progenie di generazione in generazione l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo prenditi anche dei migliori aromi di mirra vergine cinquecento sicli di cinammomo o aromatico la metà cioè duecentocinquanta di canna aromatica pure duecentocinquanta di cassia cinquecento secondo il ciclo del santuario e un indolio d'oliva e ne farai un olio per l'unzione sacra un profumo composto con l'arte di profumiere sarà l'olio per l'unzione sacra e con esso ungerai la tenda di convegno e l'arca della testimonianza la tavola e tutti i suoi utensili il candelabro e i suoi utensili l'altare dei profumi l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili la conca e la sua base consacrerai così queste cose e saranno santissime tutto quello che le toccherà sarà santo e ungerai Aaron e i suoi figlioli e li consacrerai perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti e parlerai e parlerai ai figlioli di Israele dicendo quest'olio mi sarà un olio di sacra unzione di generazione in generazione non lo si spanderà su carne d'uomo e non ne farete altro di simile della stessa composizione esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa chiunque ne comporrà di simile o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà sterminato di fra il suo popolo l'Eterno disse ancora a Mosè prenditi degli aromi della resina della conchiglia odorosa del galbano degli aromi con incenso puro in dosi uguali e ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere salato puro santo ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza della tenda di convegno dove io mi incontrerò con te esso vi sarà cosa santissima e del profumo che farai non ne farete della stessa composizione per uso vostro vi sarà cosa santa consacrata all'Eterno chiunque ne farà di simile per odorarlo sarà sterminato di fra il suo popolo l'Esodo capitolo trentunesimo l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo vedi io ho chiamato per nome Bet-Saleil figliuolo di Uri figliuolo di Uri dalla tribù di Giuda e l'ho ripieno dello spirito di Dio di abilità di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori per concepire opere d'arte per lavorare l'oro l'argento e il rame per incidere pietre da incastonare per scolpire il legno per eseguire ogni sorta di lavori ed ecco gli ho dato per compagno ho 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 figliuolo di Ahis e Mak della tribù di Dan e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possan fare tutto quello che t'ho ordinato la tenda di convegno l'arca per la testimonianza e il propiziatorio che vi dovrà essere sopra e tutti gli arredi della tenda la tavola e i suoi utensili il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili l'altare dei profumi l'altare degli olocausi e tutti i suoi utensili la concha e la sua base i paramenti per le cerimonie i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti per i suoi figliuoli per esercitare il sacerdozio l'olio d'unzione e il profumo fragrante per il luogo santo faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato e l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo quanto a te parla ai figliuoli d'Israele di loro badate bene ed osservare i miei sabati perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica osserverete dunque il sabato perché è per voi un giorno santo chi lo profanerà dovrà essere messo a morte chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo essi lavorerà sei giorni ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo sacro all'Eterno chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato dovrà essere messo a morte i figliuoli di Israele quindi osserveranno il sabato celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo esso è un segno perpetuo fra me e i figliuoli di Israele perché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai gli dette le due tavole della testimonianza tavole di pietra scritte col dito di Dio esodo capitolo trentaduesimo ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aronne e gli disse orsù facci un Dio che ci vada dinnanzi perché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto non sappiamo che ne sia stato e Aronne rispose loro staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli dei vostri figlioli delle vostre figliole e portatemeli e tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto e quelli dissero oh Israele questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto quando Aronne vide questo e resse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva domani sarà festa in onore dell'Eterno e l'indomani quelli si levarono di buon'ora offrirono locausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi e l'Eterno disse a Mosè va scendi perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto si sono presto sviati dalla strada che avevo loro ordinato di seguire si sono fatti un vitello di getto l'hanno adorato gli hanno offerto sacrifici e hanno detto oh Israele questo è il tuo Dio che ti è tratto dal paese d'Egitto l'Eterno disse ancora a Mosè ho considerato bene questo popolo ecco è un popolo di collo duro ordunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi ma di te io farò una grande nazione allora Mosè supplicò l'Eterno il suo Dio e disse perché oh Eterno l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con man forte perché direbbero gli egiziani egli li ha tratti fuori per far loro del male per ucciderli su per le montagne e per sterminarli di sulla faccia della terra calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo ricordati d'Abramo d'Isacco e d'Israele tuoi servi ai quali giurasti per te stesso dicendo loro io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà in perpetuo e l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani tavole scritte da ambo i lati di qua e di là le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole or Giosuè udendo il clamore del popolo che gridava disse a Mosè so di un fragore di battaglia nel campo e Mosè rispose questo non è né grido di vittoria né grido di vinti il clamore che io odo è di gente che canta e come fu vicino al campo vide il vitello e le danze e l'ira di Mosè si infiammò ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte poi prese il vitello che quelle avevano fatto lo bruciò col fuoco lo ridusse in polvere sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figlioli di Israele e Mosè disse ad Aronne che ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un sì grande peccato e Aronne rispose l'ira del mio Signore non si infiammi tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male essi mi hanno detto facci un Dio che ci vada d'innanzi poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto non sappiamo che ne sia stato e io ho detto loro chi ha dell'oro se lo devi di dosso essi me l'hanno dato io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo al proprio dei suoi nemici si fermò all'ingresso del campo e disse chiunque è per l'Eterno venga a me e tutti i figliuoli di Levi si radunarono presso a lui ed egli disse loro così dice l'Eterno lì Dio di Israele ognuno di voi si metta la spada al fianco passate ripassate nel campo da una porta all'altra d'essa e ciascuno uccida il fratello ciascuno l'amico ciascuno il vicino i figliuoli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa tremila uomini or Mosè aveva detto consacratevi oggi all'Eterno anzi ciascuno si consacri a prezzo del proprio figliuolo e del proprio fratello onde all'Eterno vi impartisco una benedizione l'indomani Mosè disse al popolo voi avete commesso un gran peccato ma ora io salirò all'Eterno forse otterrò per il vostro peccato che vi sia perdono Mosè dunque tornò all'Eterno e disse ahimè questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro non di meno perdona ora il loro peccato se no dè cancellami dal tuo libro che è scritto e l'Eterno rispose a Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro or va conduci il popolo dov'è tu detto ecco il mio angelo andrà dinanzi a te ma nel giorno che verrò a punire io li punirò del loro peccato e l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto l'Esodo capitolo trentatreesimo l'Eterno disse a Mosè va sali di qui tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo ad Isacco e Giacobbe dicendo io lo darò alla tua progenie io manderò un angelo dinanzi a te caccerò i Cananei gli Amorei gli Ittei i Faresei gli Ivei e Gabusei esso vi conderrà in un paese dove scorre il latte e il miele poiché io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo di collo duro onde non abbia sterminarti per via quando il popolo di queste sinistre parole fece cordoglio e nessuno si mise i propri ornamenti infatti l'Eterno aveva detto a Mosè dia ai figlioli di Israele voi siete un popolo di collo duro se io salissi per un momento solo in mezzo a te ti consumerei ordunque togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare e i figlioli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza del monte Eureb in poi e Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo a una certa distanza dal campo e la chiamò la tenda di convegno e chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo quando Mosè usciva per recarsi alla tenda tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda e come Mosè era entrato nella tenda la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda e tutto il popolo si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda or l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico poi Mosè tornava al campo ma Giosuè figliolo di Nunzio e giovane ministro non si ripartiva dalla tenda e Mosè disse all'Eterno vedi tu mi dici fa salire questo popolo e non mi fa conoscere chi manderà in meco eppure ha detto io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazie agli occhi miei ordunque se ho trovato grazie agli occhi tuoi dè fammi conoscere le tue vie on Dio ti conosca e possa trovare grazie agli occhi tuoi e considera che questa nazione è popolo tuo e l'Eterno rispose la mia presenza andrà a te ed io ti darò il riposo e Mosè gli disse se la tua presenza non vi è meco non ci far partire di qui poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra e l'Eterno disse a Mosè farò anche questo che tu chiedi poiché tu hai trovato grazie agli occhi miei ti conosco personalmente Mosè disse dè fammi vedere la tua gloria e l'Eterno gli rispose io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà disse ancora tu non puoi vedere la mia faccia perché l'uomo non mi può vedere vivere e l'Eterno disse ecco qui un luogo presso a me tu starai su quel masso e mentre passerà la mia gloria io ti metterò in una buca al masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro ma la mia faccia non si può vedere l'Esodo capitolo trenta quattresimo l'Eterno disse a Mosè tagliati due tavole di pietra come le prime e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti e sii pronto domattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati qui via me in vetta al monte nessuno salga con te e non si vega alcuno per tutto il monte e gregi ed armenti non pascolino nei pressi di questo monte Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime si alzò la mattina di buon ora e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra e l'Eterno discese dalla nuvola e si fermò quivi con lui e proclamò il nome dell'Eterno e l'Eterno passò davanti a lui e gridò l'Eterno l'Eterno l'Idio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco in benignità e fedeltà che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione che perdona l'iniquità la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli e sopra i figlioli dei figlioli fino alla terza e alla quarta generazione e Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò poi disse Dei Signore se ho trovato grazie agli occhi tuoi venga il Signore in mezzo a noi perché questo è un popolo di collo duro perdona la nostra iniquità il nostro peccato e prendici come tuo possesso e l'Eterno rispose ecco io faccio un patto farò dinanzi a tutto il tuo popolo meraviglie quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno perché tremendo è quello che io sono per fare per mezzo di te osserva quello che oggi ti comando ecco io caccerò dinanzi a te gli amorrei i cananei gli tei i faresei gli vei e ghebusei guardati dal farlega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare onde non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio ma demolite i loro altari frantumate le loro colonne abbattete i loro idoli poiché tu non adorerai altro Dio perché l'Eterno che si chiama il geloso è un Dio geloso guardati dal farlega con gli abitanti del paese affinché quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei non avvenga che essi ti invitino e tu manci dei loro sacrifici e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli e le loro figliuole si prostituiscano ai loro dei e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dei non ti farai dei di getto osserverai la festa degli azimi sette giorni al tempo fissato nel mese di Abib mangerai pane senza lievito come tu ordinato poiché nel paese di Abib tu sei uscito dall'Egitto ogni primo genito è mio ed è mio ed ogni primo parto maschio di tutto il tuo bestiame dal bestiame grosso e minuto ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino e se non lo vorrai riscattare gli fiaccherai il collo riscatterai ogni primo genito dei tuoi figliuoli e nessuno comparirà davanti a me a mani vuote lavorerai sei giorni ma il settimo giorno ti riposerai ti riposerai anche al tempo della ratura e della mietitura celebrerai le feste delle settimane cioè delle primizie della mietitura del frumento e la festa della raccolta alla fine dell'anno tre volte all'anno comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore dell'Eterno che è l'Idio di Israele poiché io caccerò dinanzi a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini né alcuno angognerà il tuo paese quando salirai tre volte all'Eterno per comparire nel cospetto dell'Eterno che è l'Idio tuo non offrirai con panni lievitato il sangue della vittima immolata a me e il sacrificio di festa di Pasqua non sarà serbato fino al mattino porterai alla casa dell'Eterno l'Idio tuo le primizie dei tuoi frutti della tua terra madre poi l'Eterno disse a Mosè scrivi queste parole perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele e Mosè rimase qui vi con l'Eterno quaranta giorni e quaranta notti non mangiò pane non beve acqua e l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto le dieci parole or Mosè quando scesse dal monte Sinai scendendo dal monte Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza e non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre gli parlava con l'Eterno e quando Aronne e tutti i figlioli di Israele videro Mosè ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante ed essi temettero ad accostarsi a lui ma Mosè li chiamò ed Aronne e tutti i capi della radunanza tornarono a lui e Mosè parlò loro dopo questo tutti i figlioli di Israele si accostarono ed egli ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai e quando Mosè ebbe finito di parlare con loro si mise un velo sulla faccia ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui si toglieva il velo finché non tornasse fuori tornava fuori e diceva ai figlioli di Israele quello che gli era stato comandato e figlioli di Israele guardando la faccia di Mosè ne vedevano la pelle tutta raggiante e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno l'Esodo capitolo trentacinquesimo Mosè convocò tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse loro queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare sei giorni si dovrà lavorare ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo un sabato di solenne riposo consacrato all'Eterno chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte non accenderete fuoco in alcune delle vostre abitazioni il giorno di sabato poi Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse questo è quello che l'Eterno ha ordinato prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno chiunque di cuor volenteroso recherà un'offerta all'Eterno oro argento rame stoffa di color violaceo porporino scarlatto lino fino pel di capra pelli di montone tinte in rosso pelli di delfino legno d'acacia olio per il candelabro aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante pietre donisce pietre da incastonare per l'efode e per il pettorale chiunque tra voi ha dell'abilità venga ed eseguisca tutto quello che l'Eterno ha ordinato il tabernacolo la sua tenda e la sua coperta i suoi fermagli le sue assi le sue traverse le sue colonne e le sue basi l'arca le sue stanghe il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca la tavola e le sue stanghe tutti i suoi utensili e il pane della presentazione il candelabro per la luce i suoi tensili le sue lampade e l'olio per il candelabro l'altare dei profumi e le sue stanghe l'olio dell'unzione e il profumo flagrante la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo l'altare degli olocausti con la sua gratella di rame e le sue stanghe e tutti i suoi utensili la conca e la sua base le cortine del cortile le sue colonne le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile i pioli del tabernacolo i pioli del cortile e dei loro funi i parimenti per le cerimonie per fare il servizio del luogo santo i parimenti sacri per il sacerdote Aronne e i parimenti dei suoi figlioli per esercitare il sacerdozio allora tutta la raunanza dei figlioli di Israele si portì dalla presenza di Mosè e tutti quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro spirito rendea volenterosi vennero a portare l'offerta all'eterno per l'opera della tenda di convegno per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri vennero uomini e donne quanti erano di cuor volenteroso portarono fermagli orecchini anelli da sigillare braccialetti e ogni sorta di gioielli d'oro ognuno portò qualche offerta d'oro all'eterno e chiunque aveva delle stoffe tinto in violace o porporino scarlato o lino fino o pel di capro o pel di montone tinte in rosso o pel di delfino portavano ogni cosa chiunque prelevò un'offerta d'argento e di rame portò l'offerta consacrata all'eterno e chiunque aveva del legno da casa per qualunque lavoro destinato al servizio lo portò e tutte le donne abili filarono con le loro proprie mani e portarono le loro filate di color violace porporino scarlato e del lino fino e tutte le donne che il cuore spinse ad usare la loro abilità filarono del pel di capra e i capi del popolo portarono pietre donice e pietre da incastonare per l'efode e per il pettorale aromi e olio per il candelabro per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante tutti i figliuoli di israele uomini e donne che il cuore mosse a portare volentorosamente il necessario per tutta l'opera che l'eterno aveva ordinata per mezzo di mosè recarno all'eterno delle offerte volontarie mosè disse ai figliuoli di israele vedete l'eterno ha chiamato per nome bet salil figliuolo di uri figliuolo di ur della tribù di giuda e lo ha riempito dello spirito di dio e di abilità e di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori per concepire opere d'arte per lavorare l'oro l'argento e il rame per incidere pietre da incastonare e per scolpire il legno per eseguire ogni sorta di lavori d'arte e gli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Holy Hab figliuolo di Asimach della tribù di Dan li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di artigianato e di disegnatore e di ricamatore e di tessitore in colori svariati violaceo porporino scarlatto e di lino fino per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte l'esodo capitolo trentaseesimo e Bezalil e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario faranno ogni cosa secondo che l'Eterno ha ordinato Mosè chiamò dunque Bezalil e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno aveva messo intelligenza tutti quelli che il cuore muoveva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figlioli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario affin di eseguirli ma ogni mattina i figlioli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario lasciato ognuno il lavoro che faceva vennero a dire a Mosè il popolo porta molto più di quel che bisogna per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare allora Mosè dette quest'ordine che fu bandito per il campo né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario così si impedì che il popolo portasse altro poiché la roba già pronta bastava fare tutto il lavoro che venera d'avanzo tutti gli uomini abili fra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di dieci teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo porporino e scarlato con dei cherubini artisticamente lavorati la lunghezza di un telo era di ventotto cubiti e la larghezza di quattro cubiti tutti i teli erano d'una stessa misura cinque teli furono uniti assieme e gli altri cinque furono pure uniti assieme e si fecero dei nastri di color violaceo all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli e lo stesso si fece all'orlo di telo che era all'estremità della seconda serie si misero cinquanta nastri al primo telo e parimenti cinquanta nastri all'orlo di telo che era all'estremità della seconda serie i nastri si corrispondevano l'uno all'altro si fecero pure cinquanta fermagli d'oro e si unirono i teli l'uno all'altro mediante i fermagli così il tabernacolo formò un tutto si fecero inoltre dei teli di pel di capra per servire la tenda per coprire il tabernacolo di questi teli se ne fecero undici la lunghezza ad ogni telo era di trenta cubiti e la larghezza di quattro cubiti gli undici teli avevano la stessa misura e si unirono assieme da una parte cinque teli e si unirono insieme dall'altra parte gli altri sei e si misero cinquanta nastri all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli e cinquanta nastri all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie e si fecero cinquanta fermagli di rame per unire assieme la tenda in modo che formasse un tutto si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra di pelli di delfino poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno d'acacia messe per ritto la lunghezza di un'asse era di dieci cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo ogni asse aveva due incassi paralleli così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo si fecero dunque le assi per il tabernacolo venti assi del lato meridionale verso il sud si fecero quaranta basi d'argento sotto le venti assi due basi sotto ciascun desse per i due suoi incassi e per il secondo lato del tabernacolo il lato di nord si fecero venti assi con le loro quaranta basi d'argento due basi sotto ciascuna se e per la parte posteriore del tabernacolo verso occidente si fecero sei assi si fecero pure due assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore e queste erano doppie dal basso in su e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima fino al primo anello così fu fatto per ambedue le assi che erano ai due angoli verono dunque otto assi con le loro basi d'argento sedici basi due basi sotto ciascun asse e si fecero delle traverse di legno d'acacia cinque per le assi di un lato del tabernacolo cinque traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e cinque traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente e si fece la traversa di mezzo in mezzo alle assi per farla passare da una parte all'altra e le assi furono rivestite d'oro e furono fatti d'oro i loro anelli per i quali dovevano passare le traverse e le traverse furono rivestite d'oro fu fatto pure il velo di filo violaceo porporino scarlato e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e si fecero per esso quattro colonne di acacia e si rivestirono d'oro i loro chiodi erano d'oro e per le colonne si fusero quattro basi d'argento si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo porporino scarlato e di lino fine ritorto in lavoro di ricamo e si fecero le sue cinque colonne coi loro chiodi si rivestirono d'oro i loro capitelli le loro assi e le loro cinque basi che erano di rame esodo capitolo trentasettesimo poi Bezalil fece l'arca di legno d'acacia la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo la sua larghezza di un cubito e mezzo e la sua altezza di un cubito e mezzo e la rivestì d'oro puro di dentro e di fuori e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno e fuse per essa quattro anelli d'oro che mise ai suoi quattro piedi due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato e fece anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro e fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portare l'arca e fece anche un propiziatorio d'oro puro la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo e la sua larghezza ad un cubito e mezzo e fece due cherubini d'oro li fece lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra fece che questi cherubini uscissero dal propiziatorio alle due estremità e i cherubini avevano le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le ali avevano la faccia a volta l'un verso l'altro le facce dei cherubini erano volte verso il propiziatorio fece anche la tavola di legno d'acacia e la sua lunghezza era di due cubiti e la sua larghezza ad un cubito e la sua altezza ad un cubito e mezzo la rivesti d'oro puro e la fece di una ghirlanda d'intorno che le girava intorno e le fece attorno una cornice alta quattro dita e a questa cornice fece tutt'intorno una ghirlanda d'oro e fuse per essa quattro anelli d'oro e mise gli anelli ai quattro canti e ai quattro piedi della tavola gli anelli erano vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola e fece le stanghe di legno d'acacia e le rivesti d'oro esse dovevano servire a portare la tavola fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola i suoi piatti le sue coppe le sue tazze i suoi calici da servire per le libazioni e fece anche il candelabro d'oro puro fece il candelabro lavorato al martello col suo piede il suo tronco i suoi calici i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo col candelabro gli uscivano sei bracci dai lati tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci dal candelabro dall'altro e sull'uno dei bracci erano tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore sull'altro bacio tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore lo stesso prese bracci uscenti dal candelabro e nel tronco del candelabro verrano quattro calici in forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori e c'era un pomo sotto i due primi bracci che partivano dal candelabro un pomo sotto i due seguenti bracci che partivano dal candelabro e un pomo sotto i due ultimi bracci che partivano dal candelabro così per i sei rami uscenti dal candelabro questi pomi e questi bracci erano tutti d'un pezzo col candelabro e tutto era d'oro puro lavorato al martello fece pure le sue lampade e il numero di sette i suoi smoccolatoi i suoi portasmoccolature d'oro puro per fare il candelabro con tutti i suoi tensili impiegò un talento d'oro puro poi fece l'altare dei profumi di legno d'acacia la sua lunghezza era di un cubito e la sua larghezza d'un cubito era quadro e aveva un'altezza di due cubiti i suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso e lo rivestì d'oro puro il di sopra ai suoi lati tutti intorno i suoi corni e gli fece una ghirlanda d'oro che gli girava attorno gli fece pure due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati li mise ai suoi due lati per passarvi le stange che servivano a portarlo e fece le stange di legno d'acacere rivisti d'oro poi fece l'olio santo per l'unzione e il profumo fragrante puro secondo l'arte del profumiere l'esodo capitolo trentottesimo poi fece l'altare con gli olocausti di legno d'acacia la sua lunghezza era di cinque cubiti e la sua larghezza di cinque cubiti era quadrato e aveva un'altezza di tre cubiti e ai quattro angoli fece corni che spuntavano da esso e lo rivestì di rame fece pure tutti gli utensili dell'altare i vasi per le sceneri le palette i bacini i forchettoni i bracieri tutti i suoi tensili li fece di rame e fece per l'altare una gratella di rame in forma di rete sotto la cornice della parte inferiore in modo che la rete raggiungeva la metà dell'altezza dell'altare e fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe poi fece le stanghe di legno d'acacia e le rivestì di rame e fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'altare le quali dovevano servire a portarlo e lo fece di tavole vuoto poi fece la conca di rame e la sua base di rame servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno poi fece il cortile dal lato meridionale c'erano per formare il cortile cento cubiti di cortine di lino fino ritorto con le loro venti colonne e le loro venti basi di rame i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento dal lato di settentrione c'erano cento cubiti di cortine con le loro venti colonne e le loro venti basi di rame i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento dal lato d'occidente c'erano cinquanta cubiti di cortine con le loro dieci colonne e le loro dieci basi i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento e sul davanti dal lato orientale c'erano cinquanta cubiti E da uno dei lati dell'ingresso c'erano quindici cubiti di cortine con tre colonne e le loro tre basi, e dall'altro lato, tanto di qua quanto di là dell'ingresso del cortile, c'erano quindici cubiti di cortine con le loro tre colonne e le loro tre basi. Tutte le cortine formanti il recinto del cortile erano di lino fino o ritorto, e le basi per le colonne erano di rame, i chiodi e le aste delle colonne erano d'argento, e i capitelli delle colonne erano rivestiti d'argento, e tutte le colonne del cortile erano congiunte con delle aste d'argento. La portiera per l'ingresso del cortile era in lavoro di ricamo di filo violaceo, porporino, scarlato e di lino fino o ritorto, avevano una lunghezza di venti cubiti e un'altezza di cinque cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Le colonne erano quattro, e quattro le loro basi di rame. I loro chiodi erano d'argento, i loro capitelli e le loro aste erano rivestiti d'argento. Tutti i figlioli del tabernacolo e del recinto del cortile erano di rame. Questi sono i conti del tabernacolo, del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per l'ordine di Mosè, per cura dei leviti, sotto la direzione di Itamar, figliolo del sacerdote Aronne. Bezzalil, figliolo di Uri, figliolo di Hur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che l'Eterno aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oholi Hab, figliolo di Ais e Mac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore, ricamatore di stoffe violacee e porporine scarlate e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu ventinove talenti e settecento trenta sicli secondo il ciclo del santuario. E l'argento della radunanza dei quali si fece il censimento fu cento talenti e mille settecentosettantacinque sicli secondo il ciclo del tabernacolo, un beca, a testa, vale a dire un mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario per ogni uomo compreso nel censimento dall'età di venti anni in su, cioè per seicentomila cinquecentocinquanta uomini. I cento talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo, cento basi per i cento talenti, un talento per base, e con mille settecentosettantacinque sicli si fecero dei chiodi per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame dell'offerta montava a settanta talenti e a duemilaquattrocento sicli, e con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno all'altare di rame, con la sua gratella di rame e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile, tutti i piuoli del tabernacolo e tutti i piuoli del recinto del cortile. L'Esodo, capitolo trentanovesimo Poi con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlato, fecero dei parimenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni del santuario, e fecero i parimenti sacri per Aronne come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece l'Efo d'oro di filo violaceo, porporino, scarlato e di lino fino ritorto, e batteron d'oro in lamine e lo tagliarono in fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina scarlata e nel lino fino, e farne un lavoro artistico. Gli fecero delle spallette unite assieme, inquisa che l'Efod era tenuto assieme mediante le sue due estremità, e la cintura artistica che era sull'Efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'Efod, ed è il medesimo lavoro d'esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi lavorarono le pietre donisce, incastrate in castoni d'oro, sulle quali incisero i nomi dei figlioli d'Israele, come si incidono i sigilli, e le misero sulle spallette dell'Efod come pietre di ricordanza per i figlioli d'Israele, nel modo che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'Efod, d'oro, di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, e lo fecero doppio. Aveva la lunghezza di una spanna, e una spanna di larghezza era doppio. E vi incastonarono quattro ordini di pietre, nel primo ordine aveva un sardonico, un topazio e uno smeraldo, nel secondo ordine un rubino, uno zaffiro e un calcedonio, e nel terzo ordine un opale, un agata e un ametista, nel quarto ordine un grisolito, un onisce e un diaspero. Queste pietre erano incastrate nei loro castoni d'oro, e le pietre corrispondevano ai nomi dei figlioli d'Israele, ed erano dodici secondo i loro nomi, erano incise come dei sigilli ciascuna col nome d'una delle dodici tribù. Fescero pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro intrecciate a mod di cordoni, e fecero due castoni d'oro e due anelli d'oro, e misero i due anelli alle due estremità del pettorale, e fissarono i due cordoni d'oro ai due anelli all'estremità del pettorale, e attaccarono gli altri due capi dei due cordoni d'oro ai due castoni, e li misero sulle due spallette dell'efo sul davanti. Fescero anche due anelli d'oro, e li misero alle due estremità del pettorale, sull'ollo interiore verso l'efo, e fecero due altri anelli d'oro, e li misero alle due spallette dell'efo in basso sul davanti, vicino al punto dove avveniva la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efo, e attaccarono il pettorale, mediante i suoi anelli e gli anelli dell'efo, con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente rata, lavorata dell'efo, e non si potesse staccare dall'efo, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece pure il manto dell'efo, di lavoro tessuto, tutto di colore violaceo, e all'apertura in mezzo al manto, per passarvi il capo, apertura come quella di una corazza, con intorno un'orlatura tessuta, perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto, fecero delle malegrane di color violaceo, porporino scarlato e di filo ritorto, e fecero dei sonagli d'oro puro, e posero i sonagli in mezzo alle melagrane, all'orlo inferiore del manto, tutto intorno fra le melagrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto tutto intorno, per fare il servizio come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fecero pure le tuniche di lino fino, di lavoro tessuto, per Aronne e per i suoi figlioli, e la mitra di lino fino, e le tiare di lino fino da servire come ornamento, e le bracche di lino fino ritorto, e la cintura di lino fino ritorto, di color violaceo, porporino e scarlato, in lavoro di ricamo, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E fecero d'oro puro, la lamina del sacro diadema, e vincisero, come si incide sopra un sigillo, santo all'Eterno, e vattaccarono un nastro violaceo, per fermarla sulla mitra in alto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno, e i figlioli di Israele fecero interamente come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo la tenda e tutti i suoi utensili, le sue fermaglie, le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, e la coperta di pelli di montone e tinte di rosso, e la coperta di pelli di delfino, e il velo di separazione, l'arca della testimonianza con le due stanghe, il propizzatorio e la tavola con tutti i suoi utensili, e il pane della presentazione, il candelabro d'oro puro con le sue lampade, e le lampade disposte in ordine, tutti i suoi utensili, e l'olio per il candelabro, l'altare d'oro, l'olio dell'unzione e il profumo flagrante, la portiera per l'ingresso della tenda, l'altare di rame, la sua gratella di rame, le sue stanghe, e tutti i suoi utensili, la conca con la sua base, le cortini del cortile, e le sue colonne con le sue basi, la portiera per l'ingresso del cortile, i cordami del cortile, i suoi pioli, e tutti gli utensili per il servizio del tabernacolo, e per la tenda di convegno, i paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne, e i paramenti dei suoi figlioli per esercitare il sacerdozio. I figlioli di Israele eseguirono tutto il lavoro, secondo che l'Eterno aveva ordinato a Mosè, e Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi l'avevano eseguito come l'Eterno aveva ordinato, e avevano eseguito a quel modo, e Mosè li benedisse. L'Esodo capitolo quarantesimo E l'Eterno parlo a Mosè, dicendo, Il primo giorno del primo mese erigerai il tabernacolo, la tenda di convegno. Vi porterai l'arca della testimonianza, e estenderai il velo dinanzi all'arca. Vi porterai dentro la tavola, e disporrai in ordine le cose che vi sono sopra. Vi porterai pure il candelabro, e accenderai le sue lampade. Porrai l'altare d'oro per i profumi davanti all'arca della testimonianza, e metterai la portiera all'ingresso del tabernacolo. Porrai all'altare degli olocausti davanti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno. Metterai la conca fra la tenda di convegno e l'altare, e vi metterai dentro dell'acqua. Stabilirai il cortile tutto intorno, e attaccherai la portiera all'ingresso del cortile. Poi prenderai l'olio dell'unzione, e ungerai il tabernacolo, e tutto ciò che vè dentro lo consacrerai con tutti i suoi utensili, e sarà santo. Ungerai pure l'altare degli olocausti, e tutti i suoi utensili. Quindi consacrerai l'altare, e l'altare sarà santissimo. Ungerai anche la conca con la sua base, e la consacrerai. Poi farai accostare Aronne e i suoi figlioli all'ingresso della tenda di convegno, e li laverai con acqua. Rivestirai Aronne dei paramenti, e lo ungerai e lo consacrerai, perché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. Farai pure accostare i suoi figlioli, e li vestirai di tuniche, e li ungerai come avrai unto il loro padre, perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti, e la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perpetuo di generazione in generazione. E Mosè fece così, fece interamente come l'Eterno gli aveva ordinato. E il primo giorno del primo mese del secondo anno il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse, e ne drizzò le colonne. Stesse la tenda sul tabernacolo, e sopra la tenda pose la coperta d'essa, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza, e la pose dentro l'arca, mise le stange dell'arca, e collocò i propiziatori sull'arca. Portò l'arca del tabernacolo, sospese il velo di separazione, e coprì con esso l'arca della testimonianza, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Posse pure la tavola della tenda di convegno, dal lato setenzionale del tabernacolo, fuori del velo. Vi disposse sopra in ordine il pane, davanti all'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno di rimpetto alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo, e accesse le lampade davanti all'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno davanti al velo, e vi bruciò su il profumo fragrante, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo, poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno, e vò fuori sopra l'olocausto e l'oblazione, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E pose la conca fra la tenda di convegno dell'altare, e vi pose dentro l'acqua per le evoluzioni. E Mosè ed Aron e i suoi figlioli vi si lavarono le mani e i piedi, quando entravano nella tenda di convegno e quando si accostavano all'altare, si lavavano come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. E reste pure il cortile intorno al tabernacolo e all'altare, e sospese la portiera all'ingresso del cortile. Così Mosè compì l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. E Mosè non poteva entrare nella tenda di convegno, perché la nuvola vi si era posta sopra, e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Or durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola s'alzava di sul tabernacolo, i figlioli di Israele partivano. Ma se la nuvola non s'alzava, non partivano fino al giorno che s'alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno, e di notte vi stava un fuoco a vista di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi.